Benvenuti su Dell'Ocra, con il mio nome Marcello Marchadella e Alessandro Locatelli. Ben ritrovati a una nuova puntata di The Long Run. Siamo arrivati ad aprile. Ufficialmente questa volta siamo in ritardo di un giorno, ma prometto di fare editing a stretto giro e avrete la puntata, spero, direttamente alla fine della registrazione. Questa cosa è irrilevante per chi sta ascoltando in un giorno X del futuro, però giusto così per vantarmi di questa cosa che mi metterò a lavorare sabato sera, perché siamo arrivati a sabato 2 aprile. Bene, con me, come al solito, Marcello Marchadella, che mi farà compagnia in queste due ore, spero, o un'ora o mezz'ora, quello che sarà la puntata. Abbiamo diversi argomenti che abbiamo recuperato in questo mese, è successo abbastanza di tutto a marzo e ormai, tra l'altro, cominciano anche a ripartire tutte le gare un pochettino più grosse. Quindi vengono fuori cose sempre più interessanti, anche se in realtà l'argomento principale di questo mese è legato non tanto a una gara, ma è legato a un brand, a un nuovo brand. Diciamo che dovremmo quasi pagare Kylian per tutti i favori che ci sta facendo. Penso che gli manderò la registrazione giusto per avere almeno un compenso, un rimborso spese, qualcosa di questo. Sì, anche, anche piuttosto. Magari, vabbè, senza grafiche, però una maglietta va benissimo. Stiamo parlando di, ovviamente, Kylian Jornet che in marzo, un paio di settimane fa, se non ricordo male, ha... 23 se non sbaglio, sì. Te lo sei segnato sull'agenda. Sì, diciamo che era quasi lo stesso hype che c'era quando LeBron James ha cambiato sponda ed è passato da Cleveland a Miami. Era The Decision. Esatto, esatto, sull'ISTN. Perché sicuramente è uno sport nuovo il nostro, ma tutta questa attenzione, tutto questo risalto, penso non ci sia mai stato, ovviamente. Sia per la giovane età dello sport e della comunità, sia per il personaggio di assoluto calvero che ha deciso di spostare l'equilibrio, come diceva un famoso calciatore. No, effettivamente c'era tantissima aspettativa anche perché, vabbè, già dal fatto che a fine dicembre aveva annunciato, che avrebbe lasciato Salomon, già questa era una bomba clamorosa. Il fatto di dire, o comunque di buttare lì il discorso del mi entrerò in questa nuova avventura, eccetera, eccetera, la curiosità era tanta per tante persone. Noi ovviamente avevamo ipotizzato un po' di cose tutte in lea di massimo sbagliate, anche se ovviamente una delle possibilità era quella delle famose Air Killian, che io... Alla fine è così. Io penso, il progetto diciamo si chiama Normal, o Non Normal, non ho onestamente ancora capito come si pronuncia. Per comodità io continuerò a chiamarle Air Killian, spero non si offenda della cosa. Anzi, o che utilizzi il nome come marchio registrato sarebbe un onore per te, Ale. Esatto, esatto. Perché comunque Jordan non è assolutamente un problema per lui. Però sì, diciamo che l'attesa era tanta, secondo me c'era anche quel non so che di pruriginoso di vedere se avrebbe mai tradito con un brand già preesistente, che sarebbe stato uno schiaffo clamoroso. Alla fine probabilmente è andato dove tutti si aspettavano e dove noi avevamo già ipotizzato bene o male con questa collaborazione. Curioso, diciamo che il progetto è sicuramente curioso, più che qualcosa di legato alla performance, direi che è qualcosa più legato a gente che necessita di abbigliamento tecnico, di sicuro. Però anche la scelta della squadra, che poi andremo un attimo a definire, secondo me è più indirizzata a un discorso di etica e di messaggio che il brand vuole mandare. Perché vogliamo svelare la squadra? Lui non l'ha ancora fatto. Lui non l'ha ancora fatto, lo facciamo noi per lui, così ci manda una bella letterina di denuncia. No, che poi alla fine noi abbiamo giocato a indovina chi. Assolutamente. È stato bravo anche in questo, nel senso che è riuscito a costruire pian piano, attenzione tutto, già partendo dai famosi video e foto che si trovavano in giro, così, e su questo diciamo che a livello comunicativo non gli si può dire nulla. Quindi la non comunicazione è stata eccezionale, la comunicazione a volte non è proprio delle migliori. Quindi quando fa silenzio forse cattura più l'attenzione. E anche l'aver mascherato bene o male i componenti del team, ha creato questo giochino che abbiamo fatto anche noi su Facebook. Team è costituito da, vado a memoria, tu ce l'hai sicuramente sotto mano, Bartolomeu, Emily Fosberg, per ovve ragioni, Max Romey, Dakota Jones, Toffol, Castanier, manca qualcuno? No, ci sono tutti. Ci sono tutti. Sono cinque personaggi misteriosi e uno conosciuto che è appunto Killian. Cinque personaggi misteriosi più uno, Killian, tutti e sei del team Salomon. Ex team Salomon. Ex team Salomon, sì. Chi dà più, chi dà meno. Esatto. Già questa scelta porta, dove dicevo prima, cioè l'attenzione più al messaggio che vuoi lanciare come brand, come attenzione appunto al rispetto dell'ambiente e tutto, piuttosto che a una scelta di atleti che possano essere performanti in gara, perché la Bartolomeu è da pezzo ferma, Toffol no, cioè continua a gareggiare anche se evidentemente sottometite spoglie perché non ricordo gare recenti. In realtà, in realtà, sono andato a vedere la sua pagina ITRA, lui per dire ha fatto loot l'anno scorso ed è arrivato nei primi. Credo l'abbia chiusa in 12 ore, che è un tempo incredibile, quindi... Ma probabilmente lui non ha mai catturato troppa l'attenzione, è sempre stato molto in sordina, ma si è sempre portato a casa il risultato. Sì, sì. Fosberg sta ritornando, vediamo dove andrà e dove arriverà. Dakota Jones doveva partire per Gorge Waterford oggi, ma non è partito causa infortunio, per cui sì, non... Ecco, quello che può puntare ai podi è di sicuro il paron de casa, cioè il client. Anche la Forsberg, in realtà, mi aspetto tanto. Lei comunque ha detto che tornerà a riprendere con l'allenamento. Adesso io non so se andranno in caccia del terzo figlio. Penso che la coppia l'hanno fatta, quindi dovrebbero essere a posto. In realtà lei è sempre stata un cara armato da questo punto di vista. Anche tra la prima e la seconda gravidanza era tornata a livelli di forma eccellenti, tenendo conto poi di quello che comporta avere effettivamente un figlio, una carriera, una famiglia, eccetera, eccetera. Quindi se veramente torna ad allenarsi seriamente, lei ha le capacità di fare tanto e bene. Tanto più che comunque lei è classico atleta rispetto agli altri del team, rispetto a Castanier, Dakota Jones, Bartolome, eccetera, e a Romy, che è forse la più trasversale assieme a Killian. Cioè la più multisport, forse la più anche ambassador di un certo modo di vivere e fare sport. Sì, a vivere a 360 gradi. Anche se da quel punto di vista, secondo me, la Bartolome è molto, molto seguita e molto, molto brava in quello che fa. È anche molto forte come atleta. Adesso è sparita da un paio di anni, però va anche detto che lei vive in Australia. L'Australia per due anni praticamente ha chiuso le frontiere, l'ingresso e l'uscita. Per aver avuto qualche problema in salute che ovviamente non ho. Sì, sì, non ho ovviamente idea. Però anche lei, secondo me, è molto brava a portare avanti un determinato modo di vivere la corsa, vivere lo sport, vivere l'outdoor, la natura, il cibo, il brand. Esatto, esatto, esatto. Sì, più ambassador nella accezione di ambasciatore di un qualcosa, di un messaggio in questo caso, che è atleti. Infatti, se noti, comunque sul sito, quella sezione non è chiamata, non è nemmeno chiamata ambassador o atleti, è chiamata community. Community. Credo che loro poi alla fine la intendano come le persone che porteranno avanti quello che vogliono sia l'idea che sta dietro a normal. Lo chiamo normal. Non so, non ho ancora capito come pronunciarlo. Sono dici minuti che ne parliamo e non spieghiamo neanche perché si chiama normal. Vai. È una grandissima fantasia, però devo dire la verità che è andata bene perché un suo senso ce l'ha. È questa crasi, questa unione fra Norvegia e Mallorca, in quanto appunto la mente, il personaggio dietro tutto, Kilian, risiedente con moglie e figli, con compagni e figli, in Norvegia, il brand a cui si appoggiano, non l'abbiamo ancora detto, però avevamo già detto ormai tre mesi fa, siamo arrivati a tre mesi, è Camper ed è con sede legale in Mallorca per l'appunto. Quindi questa unione crea normal. La doppia N ce la spiegheranno, non ne abbiamo idea del perché. Quindi di base c'è un brand, un marchio, che ha un know-how che poco si applica all'Audora, anzi non si è mai applicato. Sicuramente una scommessona sia per loro che per Mr. Jornet. Per loro probabilmente è anche un momento giusto perché sono andato a guardare qualche articolo spagnolo. Comunque hanno un fatturato clamoroso e hanno fatto una crescita in questi anni anche di Covid di un certo spessore, di un certo rilievo. Si parla di 175 milioni di fatturato. Quindi buttarne anche due o tre probabilmente non scombussolerà così tanto. È anche vero che è una cosa che parte e partirà completamente da zero. Hai di fianco e hai assunto una persona che, come ricorda lui anche con foto, video e tutto, si è sempre dato da fare per creare l'abbigliamento, la calzatura perfetta, sia in ambito corsa che in ambito schimo, fin da tenera età, probabilmente potrebbero compensare questo gap di assoluta virginità nel campo dell'Audora. Che poi è comunque evidente il fatto che, probabilmente uno dei pensieri che ha fatto Camper è il mondo del trail è ormai un paio di anni che si sta ingrandendo sempre di più. Quindi è sicuramente un mercato che vale la pena esplorare. È un mercato dove probabilmente c'è ancora spazio per muoversi, perché per quanto Oka credo sia abbastanza leader dal punto di vista delle vendite, ci sono fette di mercato che ancora sono largamente inesplorate. E credo che avere uno, un personaggio così enorme come Giornet in questo sport, ma anche al di fuori di questo sport, sia per loro un grande cuneo d'ingresso, una grande spinta d'ingresso all'interno di questo mondo. E magari questo gli permetterà anche di sviluppare tecnologie che loro useranno anche per altri settori di mercato. Non lo so, dagli scarponcini di montagna, tiro fuori la prima cosa che mi viene in mente. Sono anche arrivati probabilmente nel momento giusto, nel senso che rivelava Giornet, chiamiamolo Mr. Giornet, di aver già avviato un po' di, non dico di trattative, ma di colloqui con Camper. Probabilmente arrivava a scadenza anche il contratto con Salon, che io appunto, come ci siamo già detti, pensavo che non avesse scadenza, che fosse appunto alla Jordan, per cui il momento era ideale. Ci sta, ci sta. Ci sta anche da parte sua, evidentemente, cercare una maggior... Sia di voler lasciare qualcosa oltre ai risultati, perché comunque è da un po' di anni che c'è la Killian Giornet Foundation, e quindi voler essere un atleta che va al di là dell'atleta, la persona oltre l'atleta, sia sicuramente, e non lo bisassimo, anzi, trovo che sia assolutamente corretto, voler un po' monetizzare da tutto questo. E ci sta. No, che poi è comunque anche uno stimolo nuovo. Immagino che dopo così tanti anni in Salomon, magari le cose si fossero un pochettino fossilizzate sulle solite routine. Nel senso, il pensare di poter creare da zero un'intera linea, un'intera sezione, segmento di prodotti, secondo me è molto stimolante rispetto a quello che magari poteva fare in Salomon, che era sviluppare le sue scarpe, i suoi prototipi per le gare, e magari qualche capo d'abbigliamento. Poi... C'è la fortuna di partire da zero, decidi tu tutto. La cosa magari da vedere sarà sicuramente camper ha know-how per quanto riguarda il discorso scarpe, e Kylian porterà sicuramente del know-how all'interno di camper. Dovrà portarlo molto per quanto riguarda il discorso di abbigliamento, perché poi da quello che ho capito del sito, non lavoreranno solo su scarpe, ma ci sarà anche dell'abbigliamento in coordinato. E Kylian non è mai stato quello che si accontenta della maglia Sols Sporti sublimatica abbastanza traspirante, e da quello che si vede anche dalla foto che ha usato per il lancio, comunque è una cosa un po' particolare, sembra un materiale molto leggero traforato, eccetera, quindi sarà da vedere. Il tuo target non sarà appunto, come dicevamo più, lo studente universitario durante l'occupazione dell'Ateneo, ma il mondo dell'outdoor. Ti faccio una domanda, anche se solitamente non è che ci facciamo domande, ma facciamoci. È una cosa, devi essere del settore per rispondere tu lo sei. Dal punto di vista grafico, cosa ne pensi? Perché io ovviamente potrei dire la mia, ma non ho titolo per dire, quindi chiedo a te, perché sicuramente è rivoluzionario anche quello, dal punto di vista del font e tutto. Sì, allora, una cosa va detta, quando noi ci prepariamo per The Long Run, in realtà tutta questa cosa non è che è scritta da qualche parte, però ci prendiamo degli appunti, giusto per avere una scaletta di quello che dobbiamo dire. Il mio foglio degli appunti cominciava così, titolo Normal, prima riga, font imperdonabile. Prima ancora di tutto, prima di Norvegia-Maiorca, Camper, la data d'uscita, font imperdonabile. Però non lo sapevo, questo è proprio il bello della diretta. È il mio lavoro, e questa cosa è altamente soggettiva e dirò questa cosa di nuovo, è assolutamente soggettiva. Se posso perdonare l'uso di quel font per il logo, perché poi alla fine gli dà un aspetto un po' particolare, un po' futuristico, è molto particolare, come è stato disegnato, non è assolutamente perdonabile l'utilizzo di quel font per i testi sul sito. Mi spiace, quel font è stato realizzato per showcase, poster e robe di quel tipo, non è da usare sui siti. Quindi, Kilian, so che stai ascoltando, so che capisci l'italiano, ti prego, parla col tuo web designer, togliete quel font dal sito, perché non è utilizzabile, ha le S più brutte del mondo, le I sono inguardabili, non si può usare una roba del genere, e soprattutto viene usato il loro payoff, che non mi sono segnato, perché faccio veramente fatica, no, live to no trace, una roba del genere, no, no path, no trace, ma chi se ne frega. È prima in bold, quindi in grassetto, poi è molto in light. Kilian, no, no. Il know how, lì non c'è. No, no. Però è vero che lui veniva da un mondo, cioè Salomon comunque ha sempre avuto, cioè non sto criticando il font di Salomon, era molto minimale tutto, lui ha voluto ricreare, cioè a quello evidentemente abituato, però... Lo so, però ci sono cose che vanno usate in grafica, ci sono cose che vanno usate sui siti, sui siti di solito si perdelige la leggibilità, e anche per i titoli non ci siamo. Un font normale va benissimo per il... Abbiamo capito che la grafica è quella, però sembra uscito da un film di fantascienza di serie B, quella Ethering, quindi no, non ci siamo. Non ci piace, non ci piace. Non ci siamo. Io mi sono segnato il loro manifesto, questa cosa di fare i manifesti è una cosa che piace tantissimo anche ai brand, non capisco perché, però vabbè, loro ci tengono e il loro manifesto è creiamo il nostro sentiero, ok, la nostra casa è la natura, comunque loro parlavano di outdoor, quindi è lo spazio aperto, ricerchiamo la semplicità, vogliamo cambiare il modo in cui ci si approccia alla corsa, prendiamo responsabilità, anche questa cosa va sempre alla grandissima, e le nostre azioni parlano più forte delle nostre parole. Ora. Manca viva la pace, c'è tutto. Sì, tra l'altro io ne ho detti sei, uno di questi l'ho inventata. Andate a cercare quale. Però in linea di massima, adesso senza fare facile ironia, forse il discorso del manifesto è la cosa che ho trovato un po' più, un po' più banalotta. Lo capisco, cioè capisco quello che vogliono fare e sicuramente avranno un approccio magari come quello di Speedland, cioè cercare dei materiali che siano riciclabili in futuro, riutilizzabili, che non abbiano impatto sull'ambiente, evitare la produzione magari in Asia o cose di questo tipo. Non ho idea. Sicuramente prenderanno delle strade particolari e, parentesi, io credo che l'inserimento di Dakota Jones all'interno della community di Normal faccia anche parte di questa cosa. Lui che per sua stessa missione qualche mese fa, facendomi ridere, aveva detto nel momento in cui sarei dovuto passare a essere un atleta professionista, ho deciso semplicemente di tornare a scuola a studiare e questo ha un po' rovinato la mia carriera da atleta, ma va bene così, è una cosa in cui io credo molto. Per questo quando avevamo letto che Dakota Jones se ne sarebbe andato da Salomon, io avevo ipotizzato un Patagonia proprio perché lui è molto virato verso l'ambiente, tra l'altro quello che studia lui proprio è dedicato all'ambiente. quindi credo che... Oltre al suo progetto Food Spring? Sì, sì, Protect Our Winters, eccetera, eccetera. Quindi io credo che se Killian gli avesse proposto un progetto che comunque va contro le sue, il suo credo, comunque le sue, le cose che pensa del mondo della corsa, credo che avrebbe rifiutato. Quindi penso che comunque lavoreranno in quella direzione che bene o male è la stessa direzione che ha preso Speedland. probabilmente questo mi fa anche pensare anche se dicono range di prezzo tra 130 e 180 euro parlano di prodotti generici, non ho capito cosa. I warning. Sì, esatto. Io penso anche che potenzialmente ci sarà magari, non so, il prodotto di punta che magari ne costa 240 di euro. Nel senso perché è prodotto in un certo modo ed è pensato in un certo modo. Però ci sarà tempo per questa cosa. Killian ci correrà da qui alla fine del suo calendario e i prodotti, dicono, usciranno in autunno. Esatto. Europa e Nord America. Quindi... Sì, diciamo che sono tra virgolette un po' tutti figli di Patagonia. Patagonia ha fatto un po' a scuola da questo punto di vista e non è per niente male, anzi, poi bisogna vedere come riescono a conciliare il tutto. Sì, anche se ti dico Patagonia, la cosa che però a me piace di Patagonia è che Patagonia non mette mai il prodotto. Mai. Non nel senso non mette mai il prodotto all'interno della comunicazione. Qualsiasi suo evento, documentario, eccetera, non riesci mai a legarlo a un discorso di prodotto, di brand. Quello viene in secondo piano. Non c'è quella spinta commerciale? Sì, sì, esatto. Cioè la spinta commerciale viene dopo? Sì, magari è secondaria. Magari non viene. È una conseguenza e non è una cosa che va in parallelo. Però, vediamo dove vanno. È un approccio differente ovviamente rispetto a quello che sono i produttori di scarpe che ci sono sul mercato in questo momento. ed è giusto che loro si posizionino così, non possono pensare di andare da camper e dire tra sei mesi usciamo con una linea di prodotti e andiamo a fare concorrenza a Nike, a New Balance. No, vediamo in che fetta di mercato riescono a inserirsi e che target riescono a recuperare perché sicuro, sicuro, ma ce lo vedo anche su di me quando ci sono dei grandi atleti che si muovono o che spingono qualcosa piuttosto che un'altra c'è sempre la scia e il codazzo di gente che la segue. Vediamo appunto se l'accessibilità dei prezzi agevolerà questo se sarà seguito o meno. A proposito di questo una cosa che ho notato guardando articoli su Iron Far varie testate che comunque citavano questa cosa del comunicato stampa di Normal una cosa che non pensavo esistesse nel mondo del trail è anche qua delle prime orme di tifoseria da brand tipo beh vediamo cosa farà col nuovo brand a me non interessa io resto in Salomon no no quello sicuro e quanti avranno il cuore spezzato a metà fra l'attaccamento e l'amore per il primo brand e l'attaccamento e l'amore per per il personaggio non sarà facile soprattutto immagino a Hard Rock in cui la punta di diamante di Salomon sfiderà la punta di diamante di Normal di Camper è di Normal in realtà sì sì giusto giusto la seconda la terza punta di diamante potremmo essere io e te se fossimo dentro il progetto esattamente però in questo caso è una punta altissima ecco purtroppo dobbiamo prima entrare in Salomon prima di farci invitare infatti mi stavo chiedendo quale altro ex atleta Salomon verrà chiamato dentro Norma chiameranno Anna Frost io me l'aspettavo io mi aspettavo che ci fosse anche Anna Frost e mi ha un po' stupito però Anna Frost non ho capito se lei era passata a Merrell qualche anno fa quando aveva lasciato Salomon che lei aveva deciso di mettere davanti la famiglia e comunque la sua attività di di corsa e corsa a livello turistico mettiamola così col marito però non ho capito se adesso in realtà lei è passata a Scott ho visto che appena ha fatto una gara in Australia e diceva di aver avuto di aver corso con le Scott XYZ lei è atleta comunque Rabbit quindi dal punto di vista delle scarpe è abbastanza libera di fare quello che vuole però sì 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 questa me l'aspetterei anche perché proprio bene o male a parte la Bartolomeo sono un po' tutti vecchia generazione se vuoi tra virgolette però potrebbero chiamare Jonathan Wyatt vecchissima generazione Salomon un Julian Chaurier non vuoi chiamarlo francesi manco mezzo eh sì si vedrà si vedrà benissimo direi che Norma l'abbiamo sviscerato abbastanza cosa dici direi proprio di sì e direi che finalmente passiamo a un il marchettone per per Kilian è fatto direi che possiamo anche passare a parlare delle gare che ci sono state in questo mese partiamo da da una delle più grosse una delle più tese forse una delle la prima vera grossa gara della stagione anche solo per il fatto che si svolge sull'isola di Gran Canaria che di solito in marzo promette temperature decisamente tropicali calde e umide in realtà quest'anno ha regalato abbastanza di tutto agli atleti quindi una vera esperienza isolana hanno hanno trovato freddo vento mezza tempesta molto caldo durante il giorno tanti ritiri tanta gente congelata tanto che comunque la gara è stata tagliata il rock and hook blow l'hanno saltato quindi hanno preferito appunto non passare nel punto più alto della gara stiamo parlando dato che non l'ho ancora detto di Transgran Canaria che l'anno scorso avevamo seguito con Unbuckled gara da 126 chilometri e poco meno di 7000 metri di dislivello gara importante perché segnava il ritorno di un nostro beniamino che è Pau Capelle dopo un anno da infortunato comunque lui ex vincitore ultimo vincitore di Ultra Trail World Tour ricordiamola a me piace ricordare questa cosa così ridicola da dire e era uno degli ex vincitori assieme a Pablo Villa avevano vinto tra l'altro mano nella mano assieme se non ricordo male due anni fa giusto o tre anni fa e Pablo Villa che lui stesso si era infortunato l'anno scorso mentre seguivamo la gara altro ritorno importante a Transgran Canaria era quello di Caitlin Gerbin o Gerbin non ho ancora capito la pronuncia che aveva vinto la gara nel 2020 era arrivata a seconda nel 2019 ed era rimasta decisamente ferma ai box nel 2021 perché era infortunata il 2020 della Gerbin era stato secondo me clamoroso e faccio una piccola digressione solo per ricordare perché forse in realtà non abbiamo mai parlato in registrazione del del suo fine 2020 dove era andata a prendersi l'FKT del Wonderland Trail di cui c'è anche un video che vi consiglio di andare a vedere magari poi lo metto nelle note dell'episodio la cosa bella del Wonderland Trail a parte il fatto che è uno degli FKT molto contesi e anche molto belli gira attorno a un monte che si chiama Mount Rainier nello stato di Washington giusto tra Seattle e Portland giusto per capirci la distanza del giro è più o meno di 100 miglia poco meno 93 miglia una cosa di questo tipo con 7000 metri di livello la cosa bella di quel fine 2020 dico fine 2020 ma in realtà si parla di agosto 2020 è che nel giro di 7 giorni l'FKT è cambiato proprietario 3 volte perché Bowman se l'è preso 5 giorni dopo se l'è preso Tyler Green e 2 giorni dopo o il giorno dopo addirittura la Nolin scusami la Gerbin è andata a prendersi il record femminile sempre supported tanto che lei diceva nella preparazione avevo letto l'intervista nella preparazione dell'FKT lei puntava addirittura a battere il record maschile supported che era di Gelfi di due anni prima cosa che ha mancato solo di 10 minuti però ormai era irrilevante perché l'avano battuto di un'ora giusto 3 giorni prima però secondo me è stata una settimana spettacolare attorno al Mount Rainier cosa figa di quell'FKT che che onestamente non sapevo o comunque se l'avevo letta non me la ricordavo puoi partire in ogni punto dal punto che vuoi perché essendo un percorso circolare conta semplicemente il tempo finale sul giro quindi anche lì posto veramente bello e vi consiglio di andare a vedere le foto perché posto spettacolare c'è anche il video di Gary Robbins che aveva preso che aveva preso l'FKT prima di Gelfi quindi si parla ancora forse addirittura 2017 2016 quando eri in forma però sì sono passate abbastanza è passato abbastanza chiunque dal Wonderland però è un posto veramente incredibile e è anche possibile che la gente l'abbia vista in foto perché è un mondo un po' particolare a occhio direi vulcanico per la forma che ha e che di solito si riempie di fiori nella parte bassa di mille colori differenti veramente posto fantastico purtroppo non sempre è fattibile il giro completo dell'FKT quindi di solito infatti si vede la standard route o modifiche a seconda dell'altezza del fiume che passano ricorda un po' il monte Summano è un po' il Summano dello Stato Unico bravissimo lo chiamano così lo chiamano così lo chiamano il piccolo Summano della West Coast deve essere un posto veramente spettacolare e pensare che comunque un FKT della lunghezza di 100 miglia venga venga battuto tre volte nel giro dei sette giorni fa ridere forse nemmeno a Rinturin Turin ma hanno mai fatto una roba del genere comunque torniamo a Transgran Canaria ultima cosa prima di passare alla classifica ricordo che è una delle ultime gare che ancora non ha ceduto al canto della sirena di UTMB fa ancora parte del circuito di Spartan Trail Capelle penso sia ancora Ambassador perché l'ho visto proprio oggi prendere un volo per andare a correre Patagonia Run altro circuito Spartan Trail e giusto come informazione altre gare del circuito che mi ero segnato Ultra Pirineo la Fial Marathon in Finlandia Skyline Scotland che non ho idea di cosa sia onestamente è la prima volta che la vedo la prima volta che la vedo letta l'ho scoperta sul sito dello Spartan Trail la famosa Golden Gate Trail Classic dico famosa perché ancora non abbiamo capito se è la gara che è andata a sostituire TNF50 Borneo Trail Classic una delle poche gare in 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 Oceania Brisbane Trail Ultra Aconcagua Ultra e Patagonia Run esatto posso passare alle classifiche e poi dirai che in Patagonia è arrivato anche Green News dopo che l'anno scorso l'avevano rimbalzato quest'anno e anche lo anno Patagonia e anche Imitiev si è Catarina e Dimitri esatto 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 e classifica di Transgrancanaria prima classificata tra le donne Ragnadebaz olandese che vive in Spagna lei si era ritirata nel 2021 e ancora la cosa brucia perché l'avevo messa nelle previsioni di podio l'anno scorso secondo posto un po' a sorpresa per quanto mi riguarda per Eby Hall che secondo me comincia molto bene l'anno con una gara che non avrei detto era tanto nelle sue corde anche visto il meteo molto chiamiamolo particolare di quest'anno terzo posto Claudia Tramps che l'anno scorso era arrivata seconda altre posizioni mi sono segnato quarto posto per la Götz che è sempre lì qualsiasi sia la gara qualsiasi sia piatta di livello poco di livello corribile lei c'è e ottavo posto per la Gerbine appunto che torna in gara per quanto riguarda gli uomini il nostro beniamino Capel purtroppo non riesce a prendersi la vittoria la vittoria va a Pablo Villa Capel però riesce a prendersi il secondo posto che comunque non era suo fino a poco dall'arrivo c'era Pere Aurel in seconda posizione ma è stato appunto superato da Capel quinto posto per Robert Aynal anche lui uno che dove lo metti sta e va ultima nota e poi smetto di parlare sulla 62 è tornato in gara un altro che ha passato metà anno metà 2021 a essere infortunato e si era fatto operare anche al ginocchio che è Tom Evans quindi complimenti anche a lui che è tornato alla vittoria saltato ahimè il nostro Francesco Cucco dopo essere partito bene perché era poi tra i primi 5-6 se non ricordo male anche l'anno scorso era arrivato quarto quindi direi quindi grande hanno fatto scopa gli spagnoli senza dubbio e Team Adidas si sta si sta assestando su buoni risultati devo dire che come te sono piacevolmente sorpreso da Abby Hall che si sta dimostrando veramente super consistente e super versatile sia su sia su CCC tra il Gran Canaria e West State quindi tanto di cappello perché è veramente super super cazzuta passiamo alla seconda gara quindi ci spostiamo oltreoceano ed è Way to Cool io trovo che sia una delle gare che ha il nome più figo perché perché è figo per l'appunto Cool e perché parte da Cool per cui e arriva a Cool quindi c'è anche un doppio gioco di parole perché assolutamente sì è sì gara che si che si si svolge in California per l'appunto storicissima perché dal 90 che si corre quindi questo era il 32esimo anno è saltata nel 2000 e 20 gara che prevede lotteria perché è una delle più frequentate d'America per quanto possano essere frequentate le gare americane per l'appunto negli anni è stata anche gara che consegnava il Golden Ticket ai primi tre partecipanti credo che sia stata sostituita quindi da da Sonoma penso che ci sono stati degli avvicinamenti su quel per quel che riguarda la distanza diciamo che sono propenso a sostenere la linea attuale di prevedere un certo miliaggio un certo chilometraggio per poter assegnare i Golden Ticket 50 km onestamente è una gara che non c'entra un cazzo poi vedremo i tempi anche che ci impiegano è un neanche un terzo della distanza poi vedremo chi ha vinto e sicuramente sono atleti poliedrici che possono far bene sia in 50 km sia una 100 miglia però direi che è più specializzata per chi pesta dura e per chi corre infatti tendenzialmente è tra quelle che vengono scelte per prime come prime ultra quando uno vuole destreggiarsi su una distanza un po' più lunga della classica maratona o per chi viene dalla strada perché comunque sono 50 km con 4800 piedi quindi stiamo parlando di 1500 metri dislivello abbastanza ridicolo però c'è in campo femminile la gara è stata vita da MK Sullivan atleta di cui non conosco nulla se non che è coach di cross country al secondo posto invece troviamo una nostra conoscenza che è Ashley Brasovan arrivata seconda e Tabor Shaw terza ci hanno messo 3 ore 45 rispettivamente 4-0-4 4-0-9 quindi direi che gara assolutamente assolutamente veloce in campo maschile si va a prendere il primo posto Tim Tollefson il nostro eroe l'eroe del podcast possiamo definirlo con un 3-13 quarto tempo di sempre è uscita recentemente l'intervista con Dylan Bowman lui spiegava che ha cambiato un po' filosofia e modo di allenarsi ma non svelo niente andatevelo ad ascoltare gara di preparazione a quello che è il suo obiettivo dell'anno che è Western State appunto era Way to Cool la prima gara di preparazione l'intenzione sua era di me lo dice proprio esplicitamente io lo traduco in italiano semplice era aprire il gas e dare giù tutto a prescindere dal posizionamento infatti per buona parte della gara è stato intorno al terzo quarto posto gli ultimi miglia gli ultimi chilometri è arrivato e si è portato a casa il primo posto ma lui dice chiaramente che si accontentava anche di un terzo quarto l'intenzione era proprio di andare lì e dare tutto quello che aveva poi quello che veniva andava bene l'importante era averci dato giù pesante secondo posto Eli Hemming che è un triatleta che si sta votando e vocando al trail running quindi per ora è un assoluto sconosciuto come assoluto sconosciuto è Ryan Baker arrivato al terzo posto ecco i primi tre sono nel giro di cinque minuti quindi è stata battagliata e combattuta fino in fondo quarto posto per Darren Thomas atleta abbastanza giovane e che si sta si sta facendo largo nel mondo dell'ultrarunning infatti Tollevson diceva che era l'avversario che temeva di più in gara che arriva con 3 e 19 pensare di metterci 3 ore e 19 per fare 50 km con poco dislivello per carità ma vuol dire veramente pestarci giù duro mi ero segnato appunto il quarto tempo di sempre di Tollevson mentre il record del percorso sia maschile che femminile è del 2015 con Megaroche per le donne 3 ore e 41 e Patrick Smith con 3 ore e 04 siamo un po' distantini quindi dal tempo però però ci sta Darren Thomas l'atleta di cui cioè su cui focalizzerei l'attenzione di noi interessati appassionati di ultrarunning è sicuramente uno specialista di Pikes Peak perché sono andato a guardare Ultra Sign Up e torna praticamente ogni anno a un terzo posto nel 2018 un quinto nel 2021 è Broken Arrow 26 km il secondo posto l'anno scorso e il 2019 è arrivato secondo alla nostra amata TNF 50 il North Face 50 a San Francisco che dobbiamo ancora capire appunto se c'è se è stata sostituita se è stata sostituita dalla gara che diceva Ale per l'appunto gara fighissima gara fighissima vederla passa per un per un pezzo anche del del West State quindi bene o male siamo siamo su quegli siamo su quegli ambienti lì su quelle zone visto quello che poi andremo a dire anche in preview delle gare del mese che si stanno svolgendo anche in questo periodo direi che la focalizzazione di Tolson è sicuramente quella di concentrarsi in assoluto su West State e di bazzicare le zone praticamente in cui è cresciuto in cui ha cominciato a correre a partire da Way Too Cool e a finire con la gara che penso si porterà a casa a breve se non si l'hai già portata a casa nei minuti in cui stiamo parlando che è American River per cui praticamente tutto là tutto in zona ora parliamo di una gara un po' particolare una gara non lo so forse che non è nemmeno una gara in realtà partirei dalla dalla classifica e non ci sono finisher quindi forse che l'agenda abbia già capito che stiamo parlando di Barclay Marathon eravamo indecisi se parlarne o meno però in realtà è una cosa così polarizzante come evento per cui secondo me non ha non ha senso far finta di niente non ha senso far finta che non esista tra l'altro è la classica cosa che affascina tantissime persone ma devo essere sincero non ho mai sentito nessuno che mi ha detto mi piacerebbe correrla è una cosa talmente particolare che secondo me devi venire da un ambiente un po' specifico per per fartela seriamente piacere mentre parentesi è una gara che ovviamente non ha tracking pensate a tutte le cose che potrebbero esserci in una gara normale ecco quelle non ci sono quindi in realtà ogni aggiornamento di ogni anno arriva su twitter tramite Keith Dan che è una delle persone che gravitano attorno a Cantrell Lazarus Lake l'ideatore della gara che aggiorna manualmente twitter semplicemente con i passaggi degli atleti con chi fa i giri eccetera ok quindi tutto passa tramite twitter ecco su twitter avevo letto la teoria per cui non ricordo chi aveva scritto queste cose non ricordo se era Amelia Boone insomma qualcuno che aveva già fatto più volte qualche americano che aveva già fatto più volte e fallito più volte Barclay che diceva ho come l'impressione che a chi la gente a cui riesca bene Barclay è tutta gente tipo inglesi che arrivano dal mondo delle fell race orienteering eccetera eccetera che sono abituati a questo tipo di cose cioè che sono abituati a cose dove non c'è un percorso si devono orientare magari il sentiero non è battuto decentemente e le condizioni continuano a cambiare quindi insomma anche per questo è molto 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 particolare come gara io non penso che tra le persone che ascoltano ci sia gente che non sa cos'è la Barclay Marathon però facciamo finta che ci siano delle persone che hanno tenuto la testa sotto la sabbia a parte gli scherzi è una cosa veramente particolare quindi non è detto che la gente sappia cos'è è una gara che si tiene nel Frozen Frozen Head State Park che è nata nel 1986 dopo che Gary Cantrell e chiamato Lazarus Lake quello insomma sui social o su internet lo trovate così e Carl N avevano ripensato alla fuga che aveva fatto l'assassino di Martin Luther King dal penitenziario di Brushing Mountain e aveva fatto questa fuga di più o meno 20 chilometri durata 54 ore in mezzo appunto a questo Frozen Head State Park e leggendo la notizia loro semplicemente avevano commentato secondo me riuscirei a fare a fare una 100 miglia in quel tempo no scusa fare una 50 miglia in quelle ore e quindi semplicemente avevano deciso nel 1986 di provare a organizzare una gara a giri all'interno del parco e ovviamente per due anni nessuno è riuscito a finirla nel 1988 c'è il primo il primo finisher che è Frozen Head quello che è chiamato ovviamente tutte le persone hanno un nickname riesce a completare quella che era la distanza una volta della gara che era un 55 miglia che è la che adesso è chiamata come Fun Run nel 1989 viene allungata definitivamente a 100 miglia la Fun Run resta una gara da tre giri c'è il primo finisher che è di nuovo come dicevo un inglese quindi non può essere un caso e da allora solo 15 persone sono riusciti a finire la gara la gara è stata finita comunque 18 volte perché ci sono delle persone che ne hanno finita tre volte per dire Jared Campbell che in realtà è americano l'ha finita tre volte lui è atleta Ultimate Direction però è molto più famoso per cose tipo Nolan's 14 quindi cose un po' più lunghe estreme adventure racing cose di questo tipo ora qualche mese fa abbiamo parlato della complessità del regolamento di Hard Rock però in confronto non so nemmeno se chiamarlo regolamento però il come si viene ammessi e come funziona Barclay è molto particolare intanto ci sono 40 corridori massimo ogni anno ogni corridore per poter partecipare deve mandare un essay una sorta di temino al direttore gara il titolo dell'essay del tema è perché mi dovrebbe essere consentito di correre la Barclay deve pagare un fee di 1,60$ quindi questo è il prezzo di registrazione se si viene accettati si riceve dal direttore gara da Lazarus Lake una lettera di condolianze perché comunque il tema è abbastanza leggero mettiamola così i first timers ovviamente sono chiamati vergine e non non poteva essere altrimenti e sono tutti obbligati a portare una targa del loro stato o della loro nazione mi chiedo non credo un italiano abbia mai partecipato alla gara e mi chiedo se come è possibile come è possibile portare una gara una targa della propria dell'auto non lo so perché in America è possibile comprarla ma non so se è possibile farlo in Italia non lo so domande magari in Autogrid si trovano le targhe non ho idea chi ha già finito scusa chi ha già partecipato alla gara ma non l'ha finita è costretto a partecipare oltre o è costretto a portare oltre a dare il fee di partecipazione di un dollaro e sessanta un oggetto deciso ogni anno può essere una t-shirt una camicia un pantaloncino a seconda di quello di cui ha bisogno l'AS quell'anno chi invece quei 15 quelle 15 persone che hanno già finito la gara per loro il fee di partecipazione è un pacchetto di camel quindi infatti ricordo nel documentario mi pare fosse Campbell che diceva che si era fermato in alla alla pompa di benzina per andare a prendere il pacchetto di sigarette da dare a a lake ok la gara si compone di 5 giri che più o meno fanno una distanza di 100 miglia dico più o meno perché ogni anno ovviamente il percorso cambia leggermente sono 5 giri da 32 km non balisati senza aid station ci sono solo due punti acqua c'è anche un passaggio vicino al penitenziario dove nel documentario si vede che passano all'interno di un di un tunnel con di scarico di scarico dell'acqua esatto si fa il primo giro in in senso orario secondo anti-orario orario anti-orario e poi a seconda di quante persone ci sono nel quinto giro uno va in orario e l'altro va in anti-orario anzi è specifico il primo che arriva giusto per renderla ancora più difficile può decidere se vuole fare il giro in senso orario o anti-orario e gli altri vanno di conseguenza quindi in realtà credo che al massimo forse siano arrivate tre persone contemporaneamente cioè tre persone a fare l'ultimo giro quindi non è che si tratta veramente di venti persone che poi devono decidere chi fa il giro in un senso chi fa il giro in un altro altra cosa strana ovviamente perché non bastava correre in un posto non balisato non segnato salendo per pendi scoscesi pieni di rovi uno dei posti più famosi si chiama Rat Rat Joe una roba del genere che è pieno di rovi è semplicemente classica classica power line che si potrebbe trovare qua quindi i posti dove scorrono le linee della corrente e ovviamente il sentiero non viene assegnato cioè non viene sistemato quindi si vede la gente con le gambe completamente devastate e come se non bastasse gli atleti devono recuperare una serie di pagine da dei libri che sono lasciati lungo il percorso quindi a ogni giro ti viene assegnato un numero di pettorale quel numero è il numero di pagine che tu devi recuperare un caso semplice hai il pettorale numero 9 da ogni libro che trovi devi recuperare la nona pagina e portarla alla fine del giro come prova del fatto che sei passato in tutti i punti come se fosse un check una delle cose più tristi viste secondo me a a Barclay è stato il finale di Robbins di Gary Robbins che da anni provava a finirla e sono un paio di anni se non ricordo male che ha abbandonato l'idea o comunque è infortunato e insomma ha deciso di metterla nel cassetto per un po' che finisce il quinto giro lo finisce sei secondi in ritardo ma comunque non gli sarebbe valso un un finisher perché aveva sbagliato ed è arrivato dalla direzione sbagliata di dove doveva arrivare praticamente ha fatto un taglio errato a due miglia dall'arrivo ed è arrivato dalla direzione sbagliata dopo essere stato fuori 60 ore perché 60 ore è il cutoff massimo deve essere stato devastante è devastante anche solo vedere il video sì togli il cuoce infatti se posso consigliare chi ne vuole sapere di più sulla Barclay i video sono due uno è un documentario chiamiamolo ufficiale che era stato fatto nel 2017 o poco dopo del 2017 e dico 2017 solo perché mi ricordo spoiler che c'è l'arrivo di John Kelly che è finisher della gara e ricordo lui nel documentario appunto purtroppo una volta era su Netflix adesso si trova solo a pagamento sul sito si vede che anche Barclay è diventata un po' più ad ampio ad ampio raggio e l'altro è il documentario di Gary Robbins che invece mi pare si possa vedere su YouTube completamente free anche quello dura un'ora un'ora e venti una cosa tipo dove i sogni vanno a morire non ricordo il titolo ma è una cosa una cosa di questo tipo straziante ma molto bello quindi andatevelo a vedere ultime ultime due cose giusto per renderla ancora più strana la gara non ha un vero orario di partenza Lazarus Lake è un spostato mentale quindi lui decide di far partire la gara quando suona la sua conchiglia la conch e quando lui suona la conchiglia voi immaginate tutta la gente in questo che sta facendo campeggio nella camper in tende eccetera sente la conchiglia che viene suonata un'ora dopo si parte e si parte quando lui accende la sigaretta e cos'altro il giro inizia e finisce da questa famosa sbarra gialla che avrete sicuramente visto in 60.000 foto differenti purtroppo nessuna donna ha mai finito il massimo che hanno fatto è stato 60 miglia guardatevi il documentario altamente consigliato molto particolare giusto per così un confronto atleti veri cioè atleti veri è brutto forse a dire ma a parte da Walter direi che proprio più come dicevi tu da gente da FKT o da da lunghi percorsi o di aerointiring che da ultrarunner o tre runner io ricordo lei Robbins però Curi non è mai riuscita a fare più di due giri la da Walter non è mai riuscita a fare più di due giri Guterl forse anche lei uno o due giri al massimo gente che gente che si è vista in gara sono John Kelly però anche John Kelly è uno che appunto l'abbiamo già detto nel podcast lo mette a fare la loot e va un po' in crisi perché non è il suo lui lo mette a fare il Pennyway o Spine Race quindi cose un po' più estreme infatti quest'anno c'era Jasmine Paris che è andata molto bene una che la Spine Race l'ha addirittura vinta come prima overall quando stava allattando tra l'altro c'è Carl Sabbe che è proprio un uomo da andando molto bene si è perso e quest'anno si è ritrovato tra l'altro questa cosa è divertente esatto l'hanno ritrovato lui stava facendo il quarto giro ha sbagliato la strada ovviamente in linea di massima per come funzionano i giri se ne fa uno con la luce uno col buio e si è ritrovato in un paese di fianco e credo abbia chiesto informazioni a un bidone dell'immondizia esatto e un abitante di questo paese ha chiamato la polizia perché pensava ci fosse un indiano si esatto non si capisce un indiano una cosa completamente razzista tra l'altro però va bene lo stesso secondo me forse vedeva i bacchetti non lo so non ho idea è stata chiamata la polizia la polizia ha capito cosa stava facendo Sabbe e l'ha riportato indietro e c'è anche la foto del poliziotto di Sabbe e di Lazarus Lake Sabbe non è uno sproveduto è uno che ha fatto l'alta via cioè è una roba è una cosa che secondo me non ha alcun paragone all'interno del mondo dell'ultra trail è non non la definirei gara però è comunque una un'ultra maratona perché comunque è una è un effort di lunghissima distanza però deve essere una cosa che è devastante dal punto di vista fisico e mentale mia idea però assolutamente appunto personale e ti chiedo cosa ne pensi mi sembra che sia più mitizzata o comunque raccolga più gli interessi del neofita cioè della vicina a questo mondo che poco conosce quello dell'ultra running del trail running più che da persone che lo basticano o lo frequentano da un po' perché è una cosa completamente cioè il correre in montagna può sembrare una cosa completamente altra e completamente diversa da quello a cui sei abituato pensare a fare una 100 miglia un UTMB è una cosa completamente folle se hai appena iniziato ti sei appena affacciato la stessa follia ti può sembrare anche prendere e partire per una per una barca nel momento in cui ti approcci ti avvicini così capisci che c'è un'unica follia è un'unica esperienza di merda e il resto è più bello sono assolutamente d'accordo con te anche se comunque poi vedo gente veramente come Cauri da Walter Emilia Boone tutta gente Gary Robbins tutta gente che continua a tornarci perché ci trova qualcosa e probabilmente ci trova quello che non riesce a trovare in nessun'altra gara al mondo deve essere un'esperienza completamente al di fuori di quello che è il normale contesto gara con un personaggio che è fuori dagli schemi visto cosa prepone oltre a questo direi di sì 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 anche perché lui è l'ideatore appunto di Big Backyard ne avevamo parlato qualche puntata fa però è deve essere veramente una cosa molto molto particolare una cosa che non ho detto perché un'altra cosa strana che fa quando Lake praticamente assegna i pettorali a tutti praticamente si studia tutte le persone che arrivano e assegna il pettorale numero uno a quello che lui pensa sarà l'atleta che si ritirerà per primo proprio quello che salterà per aria per primo e se non ricordo male nel documentario era questo ex militare o una roba del genere che pensava di essere no io in quanto marine non ho problemi a fare questa cosa in realtà salta per aria immediatamente e inallenabile poi tra le altre cose sì sì anche perché poi secondo me è una di quelle cose che nell'immaginario collettivo fa venire fa venire voglia perché è veramente al di fuori degli schemi è il non è la gara non c'è il pettorale non c'è il portale il gonfiabile d'arrivo eccetera e poi uno pensa vabbè sono cinque gire da 32 chilometri cosa vuoi che cosa vuoi che sia sulle colline in un parco non è nemmeno alta montagna giusto per dare un'idea un buon giro per questi 32 chilometri si parla di nove ore quindi c'è gente che parte facendo nove ore e comunque non ce la fa a farcela quindi è è devastante come posto e sicuramente poi gioca gioca una carta importante il gli sbalzi meteo perché poi si è sempre vista quest'anno ad esempio sono partiti col sole e temperature calde e pensavano fosse la classica la classica annata in cui gira tutto bene di notte hanno preso temperatura gelide e pioggia e tanta gente si è ritirata per quel motivo poi è uscito il sole di nuovo due giorni dopo che è finita la gara ha nevicato quindi è è un posto stranissimo e deve essere anche un po' alienante stare all'interno di un ambiente del genere per cui non hai punti di riferimento sono tutte colline basse è pieno di bosco hai solo la mappa che ti puoi studiare in non c'è un vero GPX da seguire anche questo è ovviamente parte del del fascino della gara cioè devi riuscire a trovare le devi riuscire a trovare i libri e ricordo storie di gente che comunque stava andando bene in gara ma non riusciva cioè sapeva qual era il punto GPS ma non riusciva a trovare i libri perché i libri erano nascosti in un sacchetto sotto un ceppo ribaltato solo che il problema è che magari potrebbe sembrare una cosa semplice adesso che siamo seduti e stiamo registrando ma nel momento in cui sei in gara da 20 ore e e ne hai viste di ogni probabilmente è una delle ennesime difficoltà che si che si sommano è una cosa è una cosa veramente strana ed è una cosa che allo stesso tempo mi affascina ma mi affascina guardarla da distanza non è una di quelle cose che ho mai pensato vorrei andarla a fare è un incidente in autostrada mi affascinerebbe riprendere un gruppo di 5-6 veneti dopo 40 ore che non trovano un libro sotto un bronco perché sarebbe veramente curioso il rosario che potrebbe essere so che ci giocheremo un po' della fetta di amici del Tennessee che ci seguono ma il posto è una merda il posto è una merda e non ci sono mai momenti in cui dici beh dai però ne valeva la pena forse il posto più figo è quando passi vicino al penitenziario e hai detto tutto però va anche detto che si vede sempre talmente poco della gara proprio perché non c'è gli atleti non fanno video non c'è live coverage no stranamente non c'è però per dire gli atleti fanno c'è sempre questa roba degli atleti che se ne vanno non so al primo giro tentano di star assieme perché si danno una mano ovviamente è consentito non c'è supporto esterno in gara ma puoi essere aiutato dagli atleti senza problemi però ovviamente poi questa cosa salta in aria tempo secondo giro primo giro vedi sempre stories su instagram o su twitter eccetera e poi queste cose vanno a sparire quindi in realtà a parte un paio di boschi e sto famoso sta famosa salita piena di rovi e il passaggio al penitenziario sempre veramente visto poco però si deve essere un po' staccio collinare non curato molto wild e molto molto cattivo bene torniamo a qualcosa di un po' più un po' più carino e interessante con una classifica ad esempio con una classifica e ritorniamo su una grandissima classica 50 km americana che è Chaka Note 50 che si svolge a Bellingham quindi stiamo parlando anche qui stato di Washington tipico 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 percorso da da Northwest consigliamo assolutamente la visione del del race recap fatto da recap fatto da da free trail che devo dire è il secondo che fanno quindi le considerazioni che avevo fatto sul primo che riguardava Black Canyon le ritrovo assolutamente le sottoscrivo anche sul secondo cioè molto bella musica di sottofondo solo immagini niente niente epica ma semplicemente proprio una una cronaca di quella che è stata di quella che è stata la gara e penso che sia qualcosa che soprattutto in America mancava e ogni tanto che mi guardo questi 10 minuti di video pensare di riuscire a seguire una 50 km di montagna e vederla come se fosse una gara tra virgolette di calcio cioè dalla tv di casa a me emoziona sempre perché lo dopo è scontato ormai ma mi rendo conto che così scontato non è perché è veramente freschissima come novità ed è veramente recentissima come come miglioria tecnologica se vogliamo chiamarla quindi figo figo e merita vederlo la gara da 50 km che si svolge per i primi 10 e gli ultimi 10 della gara su praticamente un sentiero cittadino urbano chiamiamolo così perché esce dalla città poi i 30 km centrali sono quelli che loro definiscono tra virgolette tecnici e che si svolgono sulle pendici appunto del del monte Chakanat cioè giusto per visualizzare classico sentiero pulitissimo come se fosse passato il rumba davanti che è quello che io adoro e questi le definirei sequoie ma sicuramente non sono sequoie quindi questi alberi altissimi che si slanciano verso l'alto tipico meteo dal nord west anche quest'anno quindi abbastanza umido non troppo però sicuramente umidiccio penso che sicuramente ad oggi nei primi tre mesi dell'anno sicuramente ma credo anche nel proseguio è la gara che ha avuto il parterre quantomeno maschile più più cazzuto perché i primi cinque posti sono in campo maschile di assoluto di assoluto rilievo partiamo dalle donne con la vittoria la seconda vittoria dopo quella del 2017 di Lady Alberson Junkans che ha vinto in 4 e 10 ed è il quarto risultato migliore di sempre seguita da Kimber Mettox e Jasmine Lauter non conosco nessuna di queste tre ma sia la prima che la terza le troveremo a Kenyons quindi distanza di due settimane indicativamente la gara maschile è quella di assoluto spessore perché ha visto combattere per quasi tutta la gara il nostro ormai idolo Adam Peterman che veramente io penso anche tu forse pensavi in una meteora vabbè questo si è portato a casa a Spittigot tanto per in realtà tutte le gare che ha fatto le ha vinte con record del percorso a Spittigot non a JFK ma di niente di niente penso secondo miglior tempo di sempre e qui va a portarsi a casa il record tirandolo giù di nove minuti anche se bisogna dire la verità che il percorso rispetto al record di Max King del 2017 è leggermente più corto però loro lo considerano un record e noi lo consideriamo altrettanto record Peterman che vince in 3 ore 24 anche qui una 50 km decisamente più più verticale di Way2Cool secondo posto è arrivato Anthony Costales se la sono battagliata i due per un pezzo infatti se vedete il video li vedrete di fianco l'uno all'altro Peterman è veramente enorme è altissimo cazzo era altissimo a Speedgot e rimane alto anche qui e anche le oca aiutano tra l'altro come? anche le oca aiutano anche la maglia dà quell'effetto un po' slanciato terzo posto Drew Holman che è arrivato a 12 secondi da Anthony Costales Drew Holman devo dire la verità anche lui è veramente fighissimo dopo il terzo posto di Western si conferma su altissimi livelli anche una gara decisamente più corta e avevo sentito un'intervista è veramente un toso come noi un ragazzo super alla mano e sveglio ci piace quarto posto l'altro idolo dopo Tollebson che è Stephen Kersh che ha fatto la sua gara super regolare sempre sempre tra i primi e poi ha piazzato la zampata finale quinto posto Tyler Green quindi abbiamo un parterre veramente clamoroso Tyler Green che anche lui atleta super versatile è di zona diciamo che è di zona lì da Western a Chakanat al Wonderland Trail a TDS quindi diciamo che non ha paura di variare e di uscire dalla comfort zone evidentemente non sa neanche lui qual è la comfort zone ed è alla ricerca di questo ma lo intervisteremo fra pochi giorni e gli chiederemo qual è la sua tipologia di gara preferita è sempre sorridente canottina di Nike e via pantalone attillato eh purtroppo sì quello è un grande però vabbè gli diremo anche questo ci deve essere ci deve essere un motivo però forse le gambe gli spregano aerodinamica alta fissa non si trova con pasta fissa c'era anche la moglie che ha fatto la ovviamente la anche lei la 50 km però non mi ricordo forse top 10 o forse fuori dal top 10 non mi ricordo comunque ha corso anche lei e entrambi sono secondo me il simbolo del divertimento tutti e due sempre comunque col sorriso mentre gli altri erano più un po' più tirati diciamo loro due sempre allegri sempre sorridenti ci piacciono possiamo dire che Oka US o ha una fortuna incredibile nel trovare atleti o ha veramente della gente che ha tanto tanto occhio perché dopo dopo aver tirato fuori Walmsley che per carità l'hanno preso dopo che aveva fatto il primo exploit a western peterman secondo me si beh però stava facendo una cosa enorme in realtà peterman è veramente un gran bell'atleta che si sono messi in casa sono curiosissimo di vedere l'anno sì sono curiosissimo anche perché appunto ad aprile ce l'avremo a kenyons anche lui dovesse vincere il ticket si butta via western secondo me è una persona intelligente secondo me no non lo fa neanche secondo me per dirti anche anche kenyons è un po' in là come distanza forse per lui è un testare cose nuove dal punto di vista della distanza 50 chilometri lui è devastante per quanto jfk sia 80 chilometri quindi giusto sì è veramente agli antipodi se vuoi speedboat jfk ma ne abbiamo ovviamente già parlato seguito da oh mamma mia mike foot seguito il suo mentore comunque il suo mito e lui che è sempre stato veramente atleta molto molto intelligente non credo che si butti via e si bruci un anno di assestamento e l'anno prossimo provarci poi per carità butti via un ticket non credo che abbia problemi a riprendersene uno però mai dire mai piuttosto di fare la fine di frerix conviene un attimo stare tranquillo sì sì magari lo se ce li do anche io due dritte io sono andato sempre un po' con calma senza record del percorso ma sì dal monte dal monte ciacanat passiamo a monte berico e parliamo di quella che per me è bene o male una delle prime gare grosse italiane ogni anno che apre l'anno apre l'anno italiano mettiamola così stiamo parlando di ultra bericus quest'anno c'è stata anche l'inaugurale e anche ultima volta che verrà corsa da 100 km almeno questo nelle intenzioni degli organizzatori da quel punto di vista abbiamo portato benissimo a Roberto Mastrotto che è andato a vincere in totale controllo la sua gara da 100 km 3.4400 metri di slivello tempo poco sotto le 10 ore quindi un signor tempo anche lui per quanto riguarda la gara femminile a dominare la gara sono state le sorelle Boifava e a spuntarla è stata Alessandra Boifava che è decisamente di casa sui terreni dell'ultra bericus ha chiuso in 10.33 la sorella un'ora dopo 11.33 per quanto riguarda invece la gara classica che è la 65 km bis al successo Christian Modena che prima della gara aveva messo avanti le mani molto avanti le mani perché comunque ha avuto una prima parte dell'anno un po' travagliata e si porta a casa la vittoria e il suo è il secondo miglior tempo di sempre quindi il primo tempo miglior sempre è sempre suo quindi l'ha fatto segnare con la sua ultima vittoria due anni fa perché mi pare che l'anno scorso non si sia corso oltre a bericus vado o no l'anno scorso non ho corso tre anni due anni fa non l'hanno corsa per quanto riguarda il resto della classifica chiudono il podio Christian Pizzati e Nicola Mora mezz'ora uno e un'ora l'altro da Modena podio femminile di nuovo vittoria per Veronica Maran che tra l'altro suo padre era in gara e quasi vicino al podio perché era in quarta o quinta posizione vado a memoria prima che si ritirasse a San Donato si è lasciato prendere dalle dalle del canto della sirena del pulmino di San Donato e Veronica Maran chiude in sé 152 bis ha successo anche lei secondo seconda vittoria consecutiva secondo posto per Cornelia Oswald direttamente dall'Austria from Austria to Monteberico e terzo posto per Giulia Spanevello però per quanto mi riguarda forse una delle gare più combattute una delle quattro gare più combattute quest'anno dell'Ultra Bericus cosa un po' particolare perché di solito è un po' snobbata per la sua formula è stata la staffetta dico snobbata perché Ultra Bericus fa staffetta solo sulla 65 km ovviamente e solo coppia formata da uomo o donna quindi a volte non è facile trovare una una il 50% della propria squadra e dicevo una delle gare più combattute divertenti perché secondo me si sono scontrate un po' due mondi che di solito non si incontrano che sono quelli delle persone che sono abituate a correre gare di lunga distanza e parlo sul locale come potrebbe essere locale ma anche a livello nazionale e anche internazionale sono andati molto bene possono essere appunto atleti come Alessio Zambono o Alberto Ferretto appunto abituati a gare di lunga distanza o gente che invece è abituata a gare un pochettino più corte 20, 30, 40 km anche loro nazionali e internazionali come potrebbero essere come sono stati appunto Giovanni Corà e Michele Meridio gara molto divertente un po' di gente è saltata per aria tutti sono bene o male arrivati al traguardo la gara comunque è stata vinta dalla coppia Alessio Zambono e Stefania Merlo ci spostiamo completamente di sport se vogliamo visto che parliamo di uno sport che è cugino del nostro ma era corretto nominarlo perché avevamo fatto una una preview avevamo dato un aggiornamento sul fatto che si sarebbe corso nella zona di Aresch-Bofor si sarebbe corsa si sarebbe disputata Pierre Menta forse la gara simbolo di quello che è il mondo dello ski Alp che incuriosisce anche il nostro mondo perché bene o male ci sono atleti di punta che vi partecipano l'avevamo citata perché il mese scorso abbiamo condiviso il calendario di Kilian decisamente impegnativo e io mi ero soffermato dicendo tanto a Pierre Menta va sicuramente a fare una passeggiata cioè non a fare una passeggiata ma è difficile che possa competere ad alti livelli con chi invece quello sport lo fa costantemente e ne ha fatto ha fatto la sua ragione di vita Kilian nella prima parte della carriera la sua ragione di vita era la schimo e si era leggermente spostato su diciamo sulla corsa Kilian alla fine della fiera si porta a casa il terzo cardino del podio quindi così male non è andato tanto per tanto per ancora una volta far capire che evidentemente non è che riusciamo sempre ad azzeccare le tassioni di tutti gli atleti diciamo quasi mai quasi mai quasi mai se posso dirlo infatti quest'anno vedo tanto bene Tollebson per la Western State per l'ennesima volta Coppia Italiana porta a casa la vittoria perché Eidalin e Poscacci si portano a casa il primo posto Matteo Eidalin di South the Dulce quindi qua in Alta Val Susa è l'uomo l'atleta che si è portato a casa più Piermentà non so se sia la quinta o la sesta perché in paese c'è proprio l'illustricione che ho scritto Matteo Eidalin e non mi ricordo se ci sia scritto già quinto e quindi deve essere aggiornato ogni volta gli cambiano il numero si sono stufati di stamparlo tra l'altro Eidalin in coppia con Davide Magnini si sono portati a casa al secondo posto al Tour du Routour oggi che è il il campionato di lunga distanza dello schimo anche questa tappe come Piermentà si sono visti i volti noti dell'ultratrail del Terrain perché hanno gareggiato appunto Kylian e compagna non uniti ma separatamente i coniugi i partner Granger quindi Germain Granger e Katie Scheid il mitico François D'Ain se non sbaglio deve essere arrivato ottavo finale e appunto anche ne parlavamo poco prima di iniziare la registrazione Matteo Jacquemot se non sbaglio la pronuncia che è uno veramente uno dei primissimi compagni di avventure di Kylian per cui parliamo veramente quasi di 10-12 anni fa cioè quando giravano ancora col cappello del Carrefour il cappellino del Carrefour giusto per capire la sponsorizzazione zona del Beauforten quindi dove si svolge l'ultratrail di Beauforten che è abbastanza sentito in Francia se non sbaglio ma correggimi il tratto nuovo della TDS arriva anche a Beauforten non ti posso correggere perché non ne ho assolutamente idea però sono quasi sicuro di questo della 145 dovrebbe portare arrivare a Beauforten zona di vita in uno solo di allenamento di François Dain e futura di e futura probabilmente di Jimmone Wonsley in corsa per menta anche Ludovic Pomeret che anche lui si è lanciato e mi pare si è arrivato 14esimo sì sì a 60 anni farà anche Ironman probabilmente probabilmente sì magari lo fa già vai a sapere ultima gara di cui andiamo a parlare in realtà è una non gara però è forse una delle cose che in assoluto preferisco di più in questo in questo mondo è una cosa che mi hanno segnalato non si tratta di un allenamento autogestito per quanto mi riguarda è una gara autogestita in questo caso Leo Romanato che è l'ideatore dell'evento stufo delle poche attenzioni che riceveva l'Appennino ha creato la Slut la dico all'italiana quindi la Slut che è un'alternativa ed è una vera alternativa alla CGC dico vera alternativa perché si svolge sulla distanza di 101 chilometri e 6200 metri di dislivello che è esattamente quella che è la distanza e il dislivello della CGC quindi per me è assoluto tocco di classe ci ha lavorato per mesi e dico questo perché da quello che leggevo nei post ha fatto ovviamente è andato a vedere il party del percorso è andato a sistemare ha modificato appunto il percorso in modo che riuscisse a ottenere esattamente la distanza di dislivello eccetera ha messo in piedi tutta una serie di punti vita mettiamola così quindi gente che magari si faceva trovare in macchina per fare ristoro va contattato delle persone di un bar per aprire alle ore mi pare alle 6 del mattino in modo che gli facessero una specie di ristoro volante quindi una vera gara autogestita che partiva da appunto Sasso Marconi che è poco a sud di Bologna con arrivo a Lizzano in Belvedere idealmente un po' più sopra di Pistoia un po' più tanto sopra di Pistoia e se andate a vedere il profilo altimetrico e se riesco l'ho posto e magari chiederò a Leo di mettere pubblica l'attività profilo altimetrico brutale per quanto mi riguarda per quello che si vede secondo me hanno fatto 200 colline differenti fino al Monte Finale Monte Finale che parte ovviamente al novantesimo chilometro e per quanto mi riguarda è l'assoluto clone della Tête au vent con la chiusura della della CCC quindi niente è una cosa che a me piace piace tantissimo di questo di questo mondo di questa comunità quando delle persone si inventano eventi alternativi alle gare ma non lo fanno semplicemente buttandoli un'idea a caso ma lo fanno con cura e ci investono del tempo e ci investono idee materiale e mettono in piedi qualcosa qualcosa di sensato mi diceva che potrebbe diventare una gara in autunno non hanno ancora deciso anche se non dovesse succedere secondo me è una cosa è una cosa fantastica e sono sicuro che le persone che hanno partecipato a questa edizione zero della della Slut sicuramente da qui agli anni venire probabilmente si ricorderanno molto di più di questa cosa che delle dieci gare che hanno fatto negli ultimi anni quindi bravo bravo Leo il nostro è puntare su una centomiglia e fibbia con la scritta Slut perché non è per tutti poi Ale è disponibile anche per fare il logo della Slut assolutamente a sto punto allunghiamo fino a Pistoia e facciamo la Slut a centomiglia no no veramente le cose autogestite così per me sono fighissime e forse è il modo corretto di intendere un FKT per come la vedo io bravo esatto ovviamente non è un FKT perché può anche diventarlo però non ha quella logica o quella già preesistenza che un FKT in teoria ha però è il modo corretto di intendere le cose cioè corretto il modo che mi piace di vedere di vedere queste cose qua sì sì è assolutamente quello che avevo pensato io è il magari appunto non può essere come dici tu giustamente un FKT però lo vedo lo vedo allo stesso livello per me di Translagorai cioè la volontà di creare un evento per fare comunità per stare assieme per mostrare un territorio per valorizzare sia lo sport che appunto un determinato luogo quindi kudos totale a loro è veramente una cosa che a me piace e piace tantissimo ok finiamo il mese di marzo che è stato il primo un po' con gare di rilievo in cui non abbiamo fatto fatica a dover trovare qualcosa di cui parlare è stato l'antipasto perché aprile sicuramente è denso di gare sia in Italia che in Europa che in America sono di assoluto rilievo ci premeva partire con una piccolissima preview per quel che riguarda una gara che si sta svolgendo aurora e potrebbe anche finire mentre noi stiamo registrando ed è gorge waterfall una gara sicuramente una grande classica del nord west che è stata anche gara che dispensava golden ticket il cui record del percorso appartiene ancora a Jim Wamsley a meno di sorprese di questi minuti di queste ore cinque anni quattro cinque anni che non veniva più che non veniva più corsa e diciamo che è la gara di cui in America si parla di più perché uno dei race director e degli organizzatori è Dylan Bowman Dylan Bowman che sta catturando l'attenzione ed è dappertutto praticamente sta spingendo molto su quel che riguarda il modo del trail in generale e su questa gara nel particolare ci sono atleti di livello sia sulla 100 che sulla 50 mi sono domandato se siano andati beh sicuramente è una gara splendida mi sono domandato se sono andati anche per fare un favore all'amico Bowman perché ci sono nomi decisamente importanti anche sulla 50 sicuramente è un bel è un bel allenamento in vista di altri obiettivi anche prossimi però sì la domanda è un po' maliziosa me la sono me la sono posta però c'è anche premio in denaro quindi c'è un premio in denaro molto goloso è uguale per uomo e donna infatti ha la certificazione tra i sister non conoscevo che ci fosse la certificazione tra i sister l'ho trovata a fine pagina quindi mi ha incuriosito anche questo è figo ormai gli americani sono più avanti anche su questo cioè dopo l'ISO 9002 anche la certificazione di trail sister gara sulla 50 in out and back zona di Portland segue un po' comunque si affaccia sul Columbia Ridge River Gorge quindi su questa gola del Columbia River zona di Portland indicativamente poco fuori a un'oretta da Portland sulla 100 km ci sono sicuramente di da tenere d'occhio David Laney anche lui ormai non si può definire specialista di niente visto che passa dalla pista all'UTMB quarto UTMB vincitore Desert Solstice vincitore di Rocky Raccoon io credo vincitore anche di di Gorge Waterfall adesso arriverà sicuramente una segnalazione che non si è presentata neanche probabile altro nome da tenere d'occhio è Corey Waltering che è da un po' che non corre visto che si era dedicato soprattutto a FKT aveva fatto Ice Age Trail FKT se non sbaglio che è lunghissimo se non ricordo male lunghissimissimo esatto lunghissimissimo sulle donne sulla 100 km ci sono Ilaria Allen questo sicuramente è un favore visto che non dico che è il datore di lavoro ma più o meno è l'Alessandro Locatelli di Ilaria Allen come o tu sei il mio di Lamboma e Denise Burassa anche lei una vecchia conoscenza è una vecchia gloria con vecchia non intendo che sembra un po' più avanti degli anni non so neanche quanti anni abbia però sì però è in giro da un po' ecco è in giro da un pochino ha fatto anche Istria lo stesso anno di Bowman sulle 50 ci sono i nomi più succosi sia in campo femminile che in campo maschile perché in campo femminile battaglieranno Taylor Nolan e Killianninger mentre in campo maschile ci sono Ryan Miller Tyler Green che si ripresenta una 50 km dietro casa praticamente Jason Schlarb Ian Sherman Adam Merri era dato per partente ma ho visto che stava facendo video ad altri quindi non so se si è partito se stesse riprendendo quelli della 100 e lui fa la 50 o proprio non corre alla 50 probabilmente ha preso il brutto vizio del suo amico Matt Daniels che non corre da millenni ormai fa solo video e ultimo ma non meno importante il mio sosia Christopher Denucci anche lui una vita che non corre la gara la 100 è qualificante Western State e qualificante anche UTMB per i 100 km e per i 50 km quindi si sono inseriti ma non avevamo dubbi che si sarebbe inserito nel circuito visto che Bowman possiamo definirlo un ambassador UTMB magari un ambassador non ufficiale ma sicuro è stato uno degli atleti che era stato sondato quando si è deciso di fare la grande rivoluzione di UTMB secondo te è normale che noi facciamo spingiamo di più il brand di Bowman rispetto a Buckhold no pensiamo rispetto a quanto lui spinge noi sì questo lo trovo ingiusto sarebbe da farglielo presente però vabbè no in realtà Gorge Waterfall è una di quelle gare che forse ne avevamo già parlato anche su una su un precedente episodio quando era stata annunciata ci chiedevamo se potenzialmente era quella che poteva diventare una gara blueprint per un'eventuale futura by UTMB americana perché appunto hanno ancora difficoltà a trovare e potrebbe starci sì 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 assolutamente anche perché poi credo che ci sia solo bisogno quindi sarebbe solo da inserire la distanza magari una distanza breve una venti però non trovo non 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 trovo folle il fatto che sulla 50 ci sia un pochettino più di competizione perché secondo me come periodo dell'anno è più ideale cade meglio una 50 a livello di preparazione per gente che poi ha intenzione di andare a fare 100 e 100 miglia 100 km 100 miglia verso maggio giugno quindi bella gara bella gara la 50 sì sì e ti dico la 100 km sarebbe una di quelle gare nella mia battle list lo pensavo prima anche prima quando era ormai morta probabilmente lo dicevo proprio perché così non avevo la spinta a doverla fare adesso sì c'è proprio uno scenario che mi piacerebbe moltissimo i scenari del nord west mi ispirano di brutto ma noi siamo praticamente dei referral di free trail quindi credo non ci sia problema per lui darci due pettorali per andare a fare Gorgio Waterfall nel 2023 sì esatto esatto in America sì vai in America ci sono cioè la gara secondo me più importante del mese sarà a metà aprile dei canyons quindi l'ultima gara che distribuirà Golden Ticket anche qui parterre di assoluto rilievo leggo i nomi che mi sono segnato in campo femminile ci saranno Katie Ashmuth Anne May Flynn la Hogan la Peterson Abby Levain la moglie di Zach Bitter che si chiama non mi ricordo come Bitter qualcosa Nicole Bitter Nicole Bitter sì Bitter sicuro perché ha il cognome beh certo e soprattutto la regina Kat Bradley che andrà a correre in campo maschile ancora peggio cioè si saranno si daranno ceffone dall'inizio Ryan Miller Sage Canady Adam Peterman Zach Miller avevo il dubbio di aver letto bene però Zach Miller a meno che non abbia un cugino un parente che si chiama così Jason Schlarb il cantante Chris Brown Ryan Gelfi Tim Frerix Mark Emmond e Jared Eisen mica male no mica male questa sarebbe la butto lì così così prendiamo già un impegno questa sarebbe veramente da fare il live coverage perché perché sarà sarà tosta impegnativa visto che tre solo sono i posti e a vedere qui nessuno di questi ha ancora un golden ticket c'è qualcuno che ce l'aveva tipo Ryan Miller che aveva preso l'anno scorso a bandera però ha rinunciato credo che sarà anche Costales anche se non me lo sono segnato perché anche a lui è sfuggito la possibilità di correre l'anno scorso con il golden ticket di cui era venuto in possesso e non so se saranno tutti interessati a farlo ma è solito discorso c'è una volta che hai il golden ticket in mano cosa fai non vai però va bene parleremo se lo seguiamo perché secondo me è la gara più figa del mese c'è solo un problema l'anno scorso ti ricordo che il coverage era stato fatto da Matt Running quindi c'è solo da sperare che Bowman prenda interesse in Canyons quello che mi lascia un po' che mi conforta è il fatto che Sage Canaday la corna quindi non può fare la merda che ha fatto la merda l'anno scorso ed è anche by UTMB quindi io spero ci sia una qualche tipo di coverage un pochettino più serio vedremo speriamo e se si riesce molto volentieri ultima gara in America sarà c'è l'ultima gara di rilievo in America sarà Sonoma a 50 mile non assegna più golden ticket mi sono segnato solo due nomi uno in campo maschile uno in campo femminile che la correranno perché veramente il parterre non mi sembra di rilievo almeno per quello che conosco io e ci sono Seth Swanson anche qua ho guardato 6.000 volte se fosse lui così pare e la nostra Cecilia Florin in campo femminile passiamo alle gare che si svolgeranno in realtà da questa parte dell'oceano cominciamo con una gara che si è svolta oggi di cui parleremo tra due minuti che è Shacket Trail ci sarà sempre in Italia Abbots Way Tuscany Crossing Ultratrail del Mugello Le Due Rocche molto locale ma molto sentita Ferriere Trail Fest ci sarà Istria settimana questo weekend con 100 miglia by UTMB in realtà tutte le gare by UTMB ci sarà Madeira che ancora anche questa non ha ceduto ai canti della sirena di UTMB e questo dovrebbe essere quanto per quanto riguarda le gare europee molto brevemente per le gare annullate abbiamo promesso che avremmo parlato di Shacket Trail gare annullate Shacket Trail basta scusate volevo fare questa gag in realtà mi è spiaciuto un sacco però Shacket si correva oggi e sono partiti col brutto tempo pioveva già in partenza e su hanno trovato neve quindi classico meteo Ligure da aprile come ho scritto qualcuno chissà che la gente smetta di prendere per il culo me perché ho beccato neve in Istria però così uno potrà dire no io ho preso neve in Liguria quindi giusto un piccolo appunto su Madeira ha resistito alle sirene di UTMB vedremo come si svolgeranno le cose però è gara qualificante quindi mi lascia presagire che probabilmente non diventeranno by UTMB hanno deciso di far parte del circuito solo come gara qualificante quindi tanto di cappello tanto di cappello a loro mentre Transgrancanaria non ricordo facesse neanche nessun tipo di accenno neanche come qualificante a UTMB Madeira che quest'anno ha veramente un parterre clamoroso sia in campo femminile che in campo maschile campo femminile sono andate in partenza poi dovremo vedere Cardinali da Walter Katie Scheid Audrey Tanguy Catherine Goetz e Corinne Malcom per quel che riguarda gli uomini ci saranno Wamsley Reiter Garivier Engald Krogwig Granger Blanchard e Gamito la cosa figa di Madeira per come la vedo io è che si è veramente riuscita a ritagliare un suo spazio e una sua una sua importanza all'interno del calendario e anche l'anno scorso che era stata spostata comunque gli atleti hanno deciso di parteciparci sicuramente casca bene perché è un inizio anno però cioè si vede che c'è stato un evidente passaparola fra gli atleti di livello di elite perché cioè la gente scalpita proprio per andarci e rispetto ad altre gare che hanno sicuramente una visibilità internazionale ma un parterre un po' più un po' meno ciccia qua ce n'è ce n'è come decisamente quella potrebbe tra l'altro essere un'altra di quelle gare interessanti da seguire da seguire live vediamo l'ipoverage non è per niente facile per chi lo fa però sono attrezzati ragazzi sì 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 passiamo alla sezione delle news ok allora poche news questo questo mese un po' un po' varie intanto diciamo subito che non abbiamo purtroppo gossip o almeno no no gossip sono 8 mesi allora intanto avevamo parlato di speedland mi pare il mese scorso o due mesi due mesi fa perché ne avevamo parlato con Tommaso hanno deciso di interrompere la vendita di quello che era il prototipo di speedland sono usciti con la con la scarpa vera e propria ha un suo codice che ovviamente non ricordo e che non mi sono segnato la scarpa è assolutamente identica anche delle parti nere sulla tomaia forse è addirittura più brutta del prototipo dal punto di vista estetico però è difficile dirlo la stavo guardando la stavo guardando ai piedi di di Bowman non lo so mi sembra che sia mi sembra che sia l'interno di una scarpa a cui manca la parte esterna sembra più l'interno di uno scarpone sì sembra che sia stato lo stesso materiale però la scelta del nero è che il nero sta bene con tutto onestamente questo puoi portarlo anche al lavoro volendo è un mocasso un po' elegante però ok però lo dico anche dico che sono brutte ma dopo dopo anni in questo mondo ho anche capito che nel momento in cui vai in un negozio scegli una cosa e la compri perché è bella la sai benissimo che probabilmente ti distruggerà i piedi quindi in realtà non bisogna mai scegliere le cose in base a questa cosa però devo essere onesto secondo me sono molto brutte da vedersi sembrano sembrano le ciabatte quelle degli infermieri però sì sì chi le ha provate ne parla bene il fit pare incredibile parlano benissimo del boa per com'è strutturato bohman è entusiasta ma ovviamente è di parte perché deve vendere il prodotto il prezzo resta lo stesso 375 dollari e vediamo vediamo cosa farà volendo c'è lo sconto del 15 esatto sconto free trail è ovvio che evidentemente non capiamo qualcosa perché i due fondatori sono sicuramente due coi controcazzi il progetto sembra veramente balordo però qualcosa deve esserci non so se avevi visto il video di non dico di presentazione ma di testing della della scarpa in cui avevano fatto testare a una corredrice una runner della East Coast le scarpe perché l'East Coast per loro è è una roba di un di una tecnicità clamorosa sentieri pazzesco penso solo lì con delle pietre in cui a volte c'è dell'acqua e quindi rischi di scivolare credo che sia proprio una particolarità solo dell'East Coast perché qua non c'è mai e allora proprio dicevano che stavano cercando questo grip con possibilità appunto di rimanere in piedi pur con sassi sdrucciolevoli però ripeto metto le mani cioè no metto le mani avanti ammetto la mia ignoranza perché mi sembra una cosa completamente balorda ma un motivo ci sarà un motivo ci sarà spero spero che non l'abbiano fatto veramente l'abbiano fatto fuori dal vaso altra news ritorniamo sul calciomercato che è quello che un po' affascina un po' tutti con una conferma questa volta dopo una serie di atleti i più i più incredibili a partire da Killian che hanno cambiato marchio c'è stato un rinnovo del contratto chissà come se anche nel calcio con un adeguamento a salire del contratto con dei bonus in base ai risultati non conviene mettere dei bonus in base ai risultati per questo personaggio qui Frasso Adaine rinnova per altri cinque anni con Salomon quindi credo arriverà a fine carriera poi mai dire mai conferma di proseguire sulla sulla sua linea anche perché come avevamo detto già ad Ardor che comunque le scarpe che aveva i piedi erano dei prototipi diciamo interessanti per il mondo Salomon quindi l'intenzione è quella di continuare anche lui sta diventando non ai livelli di Kilian ma un un atleta poliedrico perché comunque si dedica anche allo schimo quindi rappresenta un po' una visione a 360 gradi di quello che può essere l'autore della montagna non se lo sono fatti sfuggire ci sta anche perché si perdevano anche Frasso Adaine cioè veramente mai come adesso gli servono Ida N e l'Eda Walter per portare avanti il marchio quindi purtroppo un personaggio come Kilian non lo trovi e non lo costruisci in un mese quindi sicuramente la squadra che hanno soprattutto a livello di Golden Trail Series è di di assoluto rilievo sicuramente è il team più forte nell'ambito Golden Trail Series però appunto se parliamo di personaggi meglio tenersi stretti un Ada Walter e un è un Da N hai citato Kilian e ovviamente lui è sempre presente nelle news in un modo o in un altro stiamo sempre sul tema calcio-mercato ed è loro oltre dico loro perché sia Kilian che Emily Forsberg oltre aver abbandonato Salomon avevano lasciato ovviamente anche Sunto forse addirittura hanno lasciato sì no hanno lasciato Sunto dopo aver lasciato Salomon e anche qua la gente si chiedeva un po' dove sarebbero finiti molti pensavano ovviamente Coros e così è stato e sono stati annunciati un paio di settimane fa è venuto fuori che il il CEO il proprietario di Coros è andato in Norvegia a chiacchierare direttamente con con Kilian dopo che avevano avuto un paio di scambi via mail perché a quanto pare il proprietario di Coros preferisce fare le cose dal vivo quindi diceva che nella sua umiltà si è caricato i suoi sci da sci alpinismo sull'aereo perché tanto aveva altri appuntamenti di business in Europa ed è andato in Norvegia con i suoi sci ha incontrato Kilian al trailhead all'inizio di questo attacco di sentiero sono andati su per la montagna Kilian ha già fatto il suo giro hanno parlato del più e del meno e si sono accordati su tutta una serie di cose quindi in realtà il succo del discorso è Kilian giornè è passato a Coros e lui aveva avuto tutti i modelli e ha scelto di utilizzare l'Apex Pro perché è leggero perché ha tutte le funzioni che gli servono per dalla montagna alla corsa stessa cosa fa Emily Forsberg che ormai va via in coppia con lui e quello che è venuto fuori da un paio di articoli su su dei siti tecnici uno dei quali linkato da Marco Altini di HRV4Training diceva che Kilian a portare oltre a portare ovviamente la sua la sua figura all'interno di Coros come ambassador in realtà porterà anche degli algoritmi che lui ha che ha studiato delle formule che ha studiato per il discorso di quello che è il grade adjusted pace cioè il passo sistemato in base alla pendenza del terreno cosa che appunto nell'articolo a cui Marco faceva riferimento Marco Altini diceva che questo grade adjusted pace che trovate su Strava è una generalizzazione fatta sulla base di 240.000 atleti se non ricordo male quindi è un numero medio che ti va a calcolare quello che è bene o male il tuo passo nel momento in cui corri diciamo su una su una pendenza del 10% l'articolo faceva ovviamente faceva ovviamente notare che come dato è molto più interessante quello del dato del singolo individuo rispetto al dato della media di atleti X che non si sa di che livello facciano che di che livello abbiano quindi diceva anche secondo Killian il futuro dal punto di vista di orologi e metriche è quello del valore individuale e non del valore generalizzato che ha senso cioè quindi un valore che ti viene calcolato sulla media dei tuoi dei tuoi allenamenti piuttosto che sulla media degli allenamenti di altre persone quindi insomma questo per dire Killian probabilmente porterà all'interno anche l'expertise a livello di calcolo di determinate metriche negli orologi quindi vediamo cosa si inventerà Corros nel prossimo futuro diciamo per come la vedo io una grandissima mossa di Corros per penetrare nel mercato europeo sicuramente hai preso l'atleta di punta mondiale però se già in America comunque è un mercato in cui hai una tua fetta in Europa a parte grandi atleti mi viene in mente me te esatto gli altri sì e ancora Luca Ambrosini sì in Europa spazio ce n'è io credo che abbiano fatto una mossa giusta sia a livello appunto commerciale sia come dicevi tu a livello di nerditudine di un personaggio che è veramente attentissimo ai dati e che può dargli quella quella upgrade clamoroso da questo punto di vista penso che gli abbiano dato non pochi soldini e penso che vedo un po' Corros quello che è Oka nel mondo scarpe ovviamente cioè credo che abbiano della grande disponibilità e della grande liquidità perché in America la maggior parte degli atleti hanno hanno Corros ma sai all'inizio magari sono un po' da via con poco Elu Kipchoge non credo l'abbiano pagato due soldi e neanche Kilian però se vuoi fare quel passo lì che vuoi cioè sei entrato comunque in un mercato in cui c'era un predominio di due grossi marchi e quindi l'unico modo per differenziarti è avere un hardware un software clamoroso cosa che possiamo confermare abbiano e poi dover investire in maniera clamorosa e l'investimento in maniera clamorosa è stato prendere il migliore atleta a livello di montagna e il migliore atleta e il migliore maratoneta che siano sul mercato quindi soldi credo che ne abbiano tirati fuori che poi per dire comunque Coros ha tra i suoi atleti anche Tommy Caldwell che è uno degli scalatori più forti al mondo e anche Molly Seidel ha preso bronzo alla maratona in in Giappone quindi comunque ha atleti molto molto grossi e di spicco quindi sta provando un po' a infilarsi in tutti gli sport con personaggi grossi ecco Wahoo ce l'avrà un po' più dura hanno preso un Wamsley però diciamo che ce l'avrà dura in un mercato già pieno di marchi sì 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 l'ultima cioè una delle ultime novità che vogliamo portare è parlare di calendari di atleti ne è uscito uno leggermente in ritardo rispetto al mese scorso per cui ne avevamo avevamo parlato di calendari gare di atleti Schlarb Jason Schlarb è uscito poco dopo è l'unico atleta che è uscito con calendari quindi abbiamo solo lui di cui parlare programma di tutto rispetto con una sua logica una sua logica di carburare warm up gare importanti svernare perché dico svernare partiamo con 2 aprile Gorge Waterfall 50k quindi oggi ne parlavamo prima 23 aprile andrà andrà a caccia di Golden Ticket ma può essere quindi Canyon Sandurance 100 km 17 luglio viaggia viene in Europa e fa l'Aiger quindi cazzutissimo e tostissimo per presentarsi in starting line il 26 di agosto a UTMB e vedere se riuscirà a replicare il migliore americano dell'anno anche stavolta come lui dice nel suo post esatto a me non è che dispiace come atleta secondo me è sempre stato molto sottovalutato pur avendo dei grandissimi risultati alle sue spalle mi auguro che non sia l'americano migliore di quest'anno ma non per merito perché sono affezionato più ad altri poi conclude l'anno svernando a fine ottobre a Puerto Vallarta per Messico by UTMB oppure 7-11 novembre Ultra X Mexico Copper Canyon Stage Race per cui una delle due comunque lui sarà in Messico non lo so sicuramente lui finisce non l'avevo visto è un altro oppure quindi perché comunque vuole restare umile con Thailand by UTMB Thailand a dicembre by UTMB non capisco secondo me allora se fa bene UTMB o se fa bene Iger e ha i punti a sufficienza si può anche fermare lì e andare a fare Copper Canyon che è da un po' che fa e che ha un po' come si può dire ha questo suo fascino un po' da Borra Turano ovviamente Copper Canyon quindi potrebbe essere che sia contenta di di passare dei bei momenti a Tijuana e gareggiare e finirla lì se invece ha bisogno di Stone o Puerto Vallarta o Thailandia però veramente un calendario un calendario super complesso atleta super consistente super presente e difficilmente sbaglia a gara molto molto fisicato anche molto fisicato che è tornato molto forte dall'infortunio anche lui si è operato l'anno scorso al ginocchio e anche lui allenato come altre 65 milioni di persone da David Roche e utilizzatore di Speedland forse l'unico atleta al di là di esatto 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 e questo mi linka alla prossima news anche lui dovrebbe essere atleta lecchi lecchi che ha deciso di essere sponsor di penso qualsiasi atleta io sto aspettando a questo punto i miei via posta a giorni soprattutto soprattutto per quanto riguarda il mercato americano secondo me il mercato americano è ancora è ancora giovane dal punto di vista dei bastoncini hanno passato gli ultimi anni a scoprire il fatto che i bastoncini effettivamente possono aiutare in gara soprattutto sulle gare europee UTMB eccetera dopo aver passato la prima metà degli anni 2000 a dire a chiamarli i magician sticks e a prendere per il culo gli europei perché usavano i bastoncini in gara quindi in realtà l'Equist ha fatto una campagna anche abbastanza aggressiva sui social media con tutta una serie di loro atleti nuovi e vecchi che si sono presentati con classica foto d'ordinanza su panorama montano e pettorale numero uno con logo Lecchi guardando anche solo sul sito che in questo momento non è ancora aggiornato ma che riporta la vecchia il vecchio roster degli atleti trail hanno in hanno in squadra a cappella Luis Alberto Xaviete Menard Scotty Hawker Sabrina Stanley Dylan Bowman Hannes Lamberger Pablo Villa Catherine Goetz e Danny Jung quindi davvero una bella squadretta e il materiale è ottimo quindi sì lista non completa perché veramente abbiamo visto l'acqua allunque bere dalla tazza Schlarb Tollefson Davide Magnini se non sbaglio tutti Petrole 1 e Mag con cui bere per cui sì si capisce che sta entrando di prepotenza nel mercato americano Lecchi quando vuoi siamo qui ultima news che vogliamo dare è una nuova gara by UTMB la famosa Kosciuzko by UTMB immaginariamente uno lo potrebbe collocare tra la Slovenia la Bulgaria e l'Ungheria invece si svolge in Australia mi sono solo segnato il nome perché era particolare dopodiché non so assolutamente nulla non so se sia una gara inventata se sia una gara che c'era sì secondo me sì per fare bella figura per dire no guardate non ci siamo dimenticati dell'Oceania c'è anche Ultra 3 il Kosciuzko dici che è ideata da qualche ex Jugoslavo immigrato in Oceania non lo so non mi sono segnato nulla neanche io in realtà tu hai detto ultima news e io ne ho infilata un'altra perché sì perché ne ho infilata un'altra per un ultimo zinger un'ultima frecciatina a UTMB prima di passare la palla a Tommaso per la recensione del mese e è stato annunciato il secondo main sponsor di UTMB World che è Dacia il produttore di automobili e quindi ecco niente volevo tenerci volevo solo dire che la mia prossima auto sarà probabilmente una Dacia giusto perché io non sono schiavo del marketing no a parte a parte gli scherzi volevo solo dire fortunatamente Dacia è un marchio rumeno fosse stato russo avrebbero dovuto bloccarlo e impedirgli la sponsorizzazione meglio così conta motore Renault quindi tutto magna magna francese meglio così quindi riescono comunque a prendere lo sponsor senza problemi di nuovo di nuovo con noi dopo un mese di assenza largamente richiesto dal pubblico la gente non ha commentato che è quello è tornato Tommaso con il suo angolo della recensione e in realtà questo mese parliamo di una scarpa che qualcuno già ci aveva chiesto ma che tu già avevi messo tra le tue anticipazioni delle scarpe da tenere d'occhio comunque delle buone sorprese per il 2022 parliamo di parliamo di Altra Montblanc che appunto si è dato nelle cinque preview da attenzionare per il 2022 beh allora ve la presento sicuramente un modello da trail uno dei modelli da trail più ambiziosi il più ambizioso di questa nuova generazione di scarpe visto che Altra nel 2000 a cavallo del 2021 2022 ha presentato una line up di scarpe sia da trail che da strada che l'ha sicuramente riportata in competizione con tanti marchi che erano più avanti lei sul mercato per tecnologia soprattutto parlo e anche per appeal ammetto che è una delle scarpe più belle che ho preso in mano ultimamente e ne ho viste veramente tante di gusto personale però si presenta veramente bene e penso che ciò sia dovuto queste voci discrete che ci dicono che Altra abbia acquisito un paio di designer presi da Saucony un paio di designer presi da Roca quindi immagino che abbia licenziato il suo staff dell'anno 2020 e abbia lavorato tutto l'anno scorso con persone nuove perché il cambio di stile si è visto tantissimo sulle scarpe io l'ho vista ai piedi di un tizio al Chianti e sono molto riconoscibili sui sentieri e sono molto belle dal vivo sì 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 sono riuscito anche a provarle finalmente in calzata sono molto asciutte una cosa che non mi aspettavo da un'altra che sono sempre abituato a scarpe tutto sommato pantofolone questa invece è asciutta sul collo ti lascia spazio davanti e io che insomma disclaimer uscivo da una frattura un dito del piede quindi avevo bisogno di comodità davanti sono stato bene molto bene fin da subito tanto che ho dovuto allacciarle un po' meno perché hanno un laccio molto stretto di loro ecco è una linguetta inesistente quindi ripartisce secondo me un po' mal la pressione dei lacci sul piede quindi va un po' aggiustata e sono dovuto un paio di utilizzi per trovare il giusto compromesso già che siamo sulla calzata la tomaia è un mesh elasticizzato molto forellato proprio con una trama veramente leggera che non dà tanta struttura quindi poi ci arriviamo quando parliamo dell'utilizzo però non è una di quelle tomaglie che ti fa sentire il piede ingabbiato fermo e ti dà secondo me quella sicurezza di utilizzo su tutti i terreni complice anche lo stack di altezza infatti parlando dell'intersuola l'altezza dell'intersuola come sapete è alta non zero drop quindi l'altezza dell'intersuola tra attacco e punta identica quindi quello che chiamano loro ammortizzamento cushion bilanciato però è alta 30 mm quindi è una delle scarpe performance più alte in circolazione e quindi uno potrebbe anche pensare che con 30 mm di intersuola la scarpa è un bel mattone per dare un riferimento la Speedgot che è un'altra scarpa di questo segmento è altra dietro sui 33 mm quindi siamo sempre lì però a 30 mm questa scarpa pesa 280 grammi taglia 9 e mezzo quindi è leggera e infatti è pensata per essere una scarpa performance nel senso di non è una scarpa in cui magari andare a fare la gita della domenica con molta calma perché richiede un passo un po' più attivo richiede un cosiddetto utilizzatore dinamico un runner che riesce a correrci con un ritmo abbastanza elastico ci si può correre a ritmo lento sì però questa poca struttura della tornaia superiore perdona poco ogni male lungo andare si sente più instabili l'intersuola tra l'altro è una grande novità in casa a livello tecnico perché sono riusciti a portare il loro materiale più performante che si chiamava Ego che tu che hai usato le scalante hai provato però riuscivano fino a poco tempo fa a comprimerlo su 20-23 mm di altezza al massimo e questo faceva sì che la scarpa fosse molto reattiva ma anche molto comoda allo stesso tempo quest'anno hanno introdotto questo hanno allargato la famiglia Ego hanno creato l'Evo Max che è presente su questa e l'Ego Pro che è presente invece sulle scarpe da strada con piastra in carbonio e quindi parlando della Montblanc è un materiale che bisogna aspettarsi morbido ma dinamico molto molto dinamico scorrendoci anche ieri sera l'ho proprio sentita molto fluida è una scarpa che è un po' smussata davanti col classico rocker che dà un po' di slancio e piede ma oltre a questo è anche un bel punto di unione tra comodità e reattività le caratteristiche però non la presentano secondo me non la dicono veramente per cose pensate alla scarpa è sicuramente una scarpa che con questo stacco con questa morbidezza e con questa tomaia cedevole io consiglierei di utilizzare da un utilizzatore che deve fare gare corribili la gara che hai fatto tu è la Ria Chianti il weekend scorso o Tuscani per esempio parlo di gare che hanno stradoni larghi hanno tanto da correre è una gara che premia quel tipo di terreno lì perché non vorrei trovarmi con questa a fare un terreno tecnico in discesa soprattutto perché si ha veramente poco controllo di quello che succede sotto alla scarpa e nonostante questo si scusa volevo dire quindi il fatto che loro l'abbiano chiamata Montblanc per dire io mi aspetterei di vedere tutti con tutti quelli abituati con altra a un team e Bicon questi sono americani quindi l'idea che hanno loro del trail europeo questo è uno stereotipo chiaramente però chiaramente loro hanno un'idea che con questa scarpa puoi fare qualsiasi terreno tecnico l'idea del tecnico americano purtroppo è diverso dal tecnico che abbiamo noi però sarebbe la loro idea immagino cioè Montblanc sì io l'ultimo di andare tranquillamente con questa scarpa per carità il team B non è tecnico nel senso è tanto corribile infatti cioè per come lo intendiamo noi non è tecnico questa è una scarpa secondo me assolutamente adatta a questi terreni anche in Dolomiti la porterai finché il terreno è facile su sentieri cai dove vuoi correre niente dove non è tecnico è una scarpa che si potrebbe anche comportare bene non è una scarpa da transdavè o cose di quel tipo secondo me te la godi poco per un po' di tempo magari funziona su certe sezioni ma su già arrivare in treste con questa prima sezione di discesa tecnica un po' te la rimangi ha una bella suola ne abbiamo ancora parlato cioè la suola finalmente a grande richiesta hanno portato un'altra scarpa nel segmento 3 con il Vibram non hanno messo il classico Vibram hanno utilizzato un Vibram di categoria light base che a differenza del Vibram tradizionale è meno spesso come larghezza della suola incollata sulla schiuma al prezzo di essere un po' più rigido in flessione perché praticamente il Vibram light base lo spiego in maniera semplice e poco meno tecnica però per riuscire a garantire una buona robustezza nel tempo a scapito del basso spessore viene irrigidito con una maglia interna una maglia a rombi romboidale che dà resistenza chiaramente all'abrasione sui terreni duri in questa maniera si risparmia peso si risparmia spessore la scarpa rimane molto reattiva lo stesso il Vibram light base qua funziona bene perché la scarpa ha un sacco di sezioni con schiuma esposta e quindi anche se il Vibram light base è più rigido di Vibram classico almeno qui riesce a scappare fuori tanta schiuma e quindi ad avere comunque un bel rimbalzo a terra l'ho provato anche su asfalto su dei chilometri continuativi e sembra di ad una stradale una scarpa che ti restituisce veramente tanta reattività per cui è un prodotto centrato secondo me è bella bella su serie e vado vado un po' fuori dai binari ti chiedo avevi fatto accenno a speed cross scusami sempre in testa di speed cross no a speed got volevo dire che differenza ci vedi forse solo a livello di stabilità anche se adesso comunque ho visto hanno una tomaia su quella nuova molto morbida esatto allora l'ho indossata recentemente anche quella la vestibilità è molto diversa cioè la maniera con cui la scarpa segue la forma del tuo piede sembra banale parlando di altra ma chiaramente è diversa tra i due marchi speed got è molto appuntita non è strettissima ne aspettavo più sarete in realtà con questo knit della nuova tomaia rimane una scarpa comoda è molto elasticizzata davanti però il fitting è proprio diverso l'altra cosa che cambia è la larghezza della scarpa nella parte mediale sotto l'arco plantare nella non blank è molto più stretta e quindi è più stretta almeno di un pollice e quindi ti dà una buona stabilità ma non è uno scarpone invece speed got è molto piena sotto l'arco plantare diciamo che ti regala più stabilità gratuita non devi tanto pensarci la scarpa fa il suo lavoro quindi non blank è un po' più tecnica come prodotto però diciamo che va bene c'è una scarpa protettiva sia una scarpa scarna o rischiosa sì 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 e parlavi anche di rispetto ad altri prodotti altra più o meno dello stesso segmento facevi riferimento forse alle timp sì forse quando abbiamo parlato delle novità avevamo anche detto che la timp veniva rinnovata sì infatti è uscita è appena uscita anche timp 4 con un grosso restyle quindi sono andati proprio in direzione di proporre un'alternativa un'altra alternativa a speed got diciamo però la grossa differenza con la montblanc è che se montblanc è un prodotto in cui ci vedo tanto idea racing dietro quindi materiali leggeri improntati sulla reattività piuttosto che sulla robustezza timp è una scarpa fatta con materiali più durevoli l'ho provata oggi è una bella massiccia sotto il piede si sente che c'è una grande sostanza materiale ammortizzante lo stacco è pressoché identico a un paio di millimetri di differenza o forse addirittura forse addirittura si avvicinano lo dico subito no 30 millimetri sempre 30 millimetri quindi rimane lo stesso stacco ma il materiale è proprio diverso non c'è questo non c'è lo stesso ego max c'è un ego massimizzato sempre alto però con delle caratteristiche più durevoli quello sì ed è una scarpa che però non ha il vibram sotto quindi qualcuno storcerà già il naso è un vibram scusate è una suola soffiata classica carbonio quindi è una suola che dura per carità sicuramente meno più pensata per terreno facile o secco rispetto alla alla Montblanc quindi no i soldoni stesso tipo di schiuma nell'intersuola quindi questo ego max ad alta attività è più leggero nella Montblanc è più robusto nel timp perché ego max può cambiare in base alla densità stessa altezza da terra differente suola che chiaramente le predispone per terreni più secchi nel caso della timp più bagnati o misti tecnici per la cioè tecnici per la Montblanc e invece la tomaia molto più leggera e asciutta sul piede nella Montblanc un po' più strutturata e sicura nella forma identica stessa taglia tra l'altro ti faccio un'ultima domanda poi ti lascio andare è una mia impressione o ultimamente i modelli trail risentono tanto delle tecnologie testate sui precedenti modelli strada stavo dicendo strava nel senso rispetto a una volta forse che mi pareva ci fosse più lavoro del tipo dobbiamo trovare una scarpa che è resistente che ovviamente appunto non si deve strappare nel momento in cui entra in contatto con un sasso quindi erano molto molto bulky molto grosse molto pesanti molto rigide noto negli ultimi anni e lo dico anche perché mi è capitato di correre con delle scarpe trail su strada e trovarmi incredibilmente bene mi sembra che veramente tante cose che vengono testate sviluppate create ormai sono perfezionate su strada poi vengano riportate sui modelli trail è una mia impressione adesso ho capito la domanda sì è vero è vero penso che tanti commerciali o comunque persone inviate dai marchi cosiddetti tech rep quando ci parlano dei prodotti di uno dell'altro marchio tutti cercano di farci capire che la direzione del brand qualsiasi brand è di andare incontro alla prima prova della prima calzata in negozio che è quella che determina l'avente se tu la indossi e ti senti bene la compri quindi lasciamo stare il comparto tecnico molto spesso questo influisce tantissimo soprattutto con l'acquirente poco tecnico poi è vero che tante tecnologie soprattutto tutti i nit che Nike al tempo aveva lanciato sulla linea free sulla linea anche come si chiamano sì le vecchie free run quelle molto basse sì sì e aderenti tutta quella linea di nit che tra il tempo sembrava una rivoluzione parliamo di neanche dieci anni fa adesso sono altamente commercializzate sono nate su strada ma su trail adesso ci sono arrivate tranquillamente e penso che l'idea dietro sia adesso tanti marchi trovano dei compromessi tra comodità e poi delle strutture in termoplastico che ti diano protezione perché sempre di scarpe da tre si parla sono pochi i marchi adesso ho una trattura di test di schialter ho una trentina di scarpe in casa sono pochi i marchi che ho promesso ai piedi che hanno mantenuto il cosiddetto plastegom il termoplastico adattato alla scarpa l'ho visto su Dynafit l'ho visto sulla sportiva i marchi di montagna rimangono un po' ancorati per fortuna aggiungo perché offrono ancora una soluzione per chi vuole quel genere di scarpe lì a quella tradizione lì gli altri si stanno adattando molto al comparto comodità e quindi sì quelle scarpe strada che da sempre seguono quel trend lì e l'altra cosa ultimamente si vuole rendere una scarpa sempre più leggera e l'unica è togliere 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 ottimo Tommaso grazie mille ci aggiorniamo il mese prossimo yes mandate le preferenze scrivete bravo ascoltate noi siamo il podcast che dà alla gente quello che vuole esatto tra noi quando scegliamo noi cosa dare alla gente esatto grazie mille ciao ok passiamo alla sezione video del mese questo mese abbiamo deciso di sdoppiarlo nel senso che consigliare il podcast del mese una puntata di un podcast del mese e ritorniamo sempre lì dal nostro magari mecenate stavo per dire ma la nostra musa ispiratrice di questa fantastica community che è la community dell'ultrarunning l'intervista che Dylan Bowman ha fatto a Tim Tollefson un'oretta e mezza di chiacchierata direi che l'ultima mezz'ora è molto focalizzata su Way to Cool e la preparazione a Western State la prima la prima ora è molto introspettiva per quello che riguarda Tim chiamiamolo così tanto è inutile vergognarsi di un'amicizia di un sodalizio che va avanti da anni molto introspettiva io l'ho trovata anche molto c'è dei ragionamenti che possono veramente essere bene o male universali perché credo che le difficoltà in questo mondo in questa questo mondo sportivo intendo siano capitate a chiunque ed è bello poter avere la prova concreta e provata che anche i top run quelli che sembrano veramente indifferenti e superiori a qualsiasi difficoltà hanno dei momenti di difficoltà evidente soprattutto dal punto di vista mentale e Tolerson lo dice appunto la maggior concentrazione che lui avrà in questi mesi che porteranno a Western sarà più sul piano psicologico e mentale che sul piano fisico non so se l'hai ascoltato anche tu Ale sei ritrovato anche tu dei concetti che puoi portare nella tua esperienza di runner allora io trovo che è quello che ha tirato fuori secondo me è un argomento interessante che sta uscendo sempre o che sento sempre di più ultimamente che è quello del del lato alla fine mentale sia in gara ma comunque anche fuori dalla gara e credo che soprattutto per quelli che sono gli atleti top ci sia anche questa unione o questa sovrapposizione questo nuovo livello che è dato dal mondo dei social e comunque dai contratti degli sponsor che comunque si va a sommare all'atagonistico e non credo che tante persone odio probabilmente quasi nessuno abbiano quelli che sono gli strumenti mentali per riuscire a gestire una cosa di questo tipo quindi tanta gente si trova a gestire la pressione in maniera a non saperla gestire non dico in maniera sbagliata però in maniera improvvisata ecco quindi magari anche lui stesso diceva i motivi per cui aveva voluto partecipare a UTMB si rendeva conto che non doveva farlo ma voleva farlo perché sentiva di doverlo fare però sapeva che non doveva farlo quindi insomma parlano usano anche eccessivamente nella puntata il concetto di intuition l'hanno tenuto come tema e va bene ci sta nel senso quello il classico gut feeling quello che senti nella pancia quello che senti giusto è difficile allora mettiamo così è difficile è stato difficile per me immedesimarmi in lui perché lui come atleta pro professionista ha un livello di pressione che è fuori scala perché si parla di pressione che arriva da ogni lato è una pressione mediatica perché può essere la pressione delle varie testate che può Iron Far Ultra Running Magazine insomma Ultra Running Magazine scusami c'è la pressione di quello che è al fine il pubblico che ti segue io e te io che vado da lui dopo la luta gli dico è il tuo anno e lui vuole morire dentro e ancora credo sia una delle cose di cui mi pento di più nella vita è una cosa che probabilmente non andrebbe detta mai a nessuno c'è la pressione che ti arriva dallo sponsor e per sua stessa missione lui dice oca non mi ha mai messo nessun tipo di pressione ma è una pressione mentale che io mi metto addosso esatto mi pagano e c'è la pressione del suo essere competitivo perché fosse una persona a cui piace gareggiare ma che non è competitivo oddio non penso esistano questo questo tipo di persone però ecco c'è tutte queste cose e lui dice io sono una persona fondamentalmente schiva ma che è obbligata tra virgolette perché poi alla fine lui fa piacere si vede ad avere una maschera che indosso sui social media per cui sono il Tim Tollefson atleta oca Tim Tollefson marito di di Lindsay Tollefson il tizio che ha il cane è fisioterapista abito a mammo te di qua e di là è difficile io mi rendo conto capisco che sia difficile non riesco a immaginare il tipo di pressione che una persona del genere possa avere addosso che sono sicuro è anche una delle pressioni che ha avuto addosso Walmsley ma anche tutti gli atleti meno male che hanno che fanno questo sport soprattutto quelli che poi provano a perseguire un risultato e non riescono a farlo non riescono a raggiungerlo sentivo è una cosa ridicola però sentivo io pressione con me stesso perché continuavo a essere ossessionato con la loot ma non riuscivo mai a a performare come volevo e performare per una persona che ci ha impiegato quasi 20 ore nel senso la loot la vincono in 11 però è proprio un discorso del tipo i percorsi mentali i grovigli mentali che ti costruisci sono sono folli e è bello che secondo me cominci a esserci un pochettino più di 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 apertura pubblica di questi problemi tra virgolette di questi di questi discorsi certo però ti dico è vero quello che tu dici cioè faccio fatica a immedesimarmi in certe cose però in altre tipo quando diceva che il suo terapista le aveva chiesto ok tu corre tot hai fatto tot gare così quando è stata l'ultima volta che ti sei divertito e lui faceva fatica a ricordare un momento in cui si divertiva in cui si era divertito correndo quello lo trovo abbastanza che possa toccare tutti nel momento di una vita di un atleta normale come posso essere io come puoi essere tu in cui cerchi la performance per la performance cerchi di alzare l'asticella come distanza come ritmi come tutto scordandoti quale dovrebbe essere forse il vero il vero motivo che ti spinge a maggior ragione per gente come me e te che non deve c'è che non porta a casa la pagnotta o la medaglia su quello e quello mi ha molto colpito e ci sono ritrovato per certe cose in questo preciso momento quindi l'ho trovata veramente super 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 poi ascoltatelo ormai abbiamo detto tutto però un'ultima cosa secondo me è quella è anche un discorso per come lo vedo io che è legato un po' a un concetto di alto rischio e alta reward nel senso è vero che c'è magari atleti del nostro livello per atleti del nostro livello non ha senso cercare una determinata performance per cui alla fine il divertimento è veramente basso però è anche una di quelle cose per cui nel momento in cui ti approcci in gara con un determinato obiettivo che può essere tempo posizione o sì secondo me nel momento in cui riesci a perseguire l'obiettivo riesci a a conseguire scusami l'obiettivo ovviamente quello che ne ricevi in ritorno è molto di più rispetto a quello che dici del ma a me basta solo finire e mi voglio divertire certo è un discorso del tipo di approccio alla gara cioè voglio rischiare di essere molto deluso o essere molto soddisfatto o voglio semplicemente divertirmi perché è una giornata così assolutamente secondo me però chi chi fa l'atleta come professionista non ha non ha quel non ha quel lusso non ha quel tipo di lusso non ha probabilmente ma oggi mi voglio solo solo divertire poi interessante quella quella parte in cui parla appunto della corsa come cosa più importante della sua vita ma quante cose ha perso per la corsa quello sicuramente il paragone è sempre cioè in proporzione comunque ti fa ragionare su i sacrifici che ti comporta questo sport di certo non quello che comporta per loro però è un'analisi super figa la trovate veramente sì una bella una bella chiaccarata assolutamente consigliata e belli argomenti e lui comunque è una persona assolutamente intelligente quindi è bello anche vederlo lucido e trasparentissimo sì 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 in quello nel suo pensiero poi io io spero onestamente che lui riesca a a inquadrare le cose correttamente e a vivere le cose in maniera migliore mi rendo conto che a volte non è facile però è quello che gli auguro spoiler no però piccola parentesi ha appena finito e ha vinto American River 50 Mile qualche ora fa qualche minuto fa mentre noi registravamo quindi doppietta per lui e Anok comincia molto bene il processo procede bene sempre in zona Auburn sì per rimanere su temi molto importanti un'attenzione e un focus verso la parte un po' più psicologica e mentale consigliamo anche il video che è uscito in concomitanza con l'odiosa festa del pesce d'aprile che purtroppo in America spopola e piace e diverte la trovo di una imbarazzante ma comunque ok vi consigliamo un video veramente brevissimo di un minuto di Jim Womsley che si cimenta nel Birmaille quindi questo miglio fatto di corsa a tutta per puntare al record poi ripeto non si capisce se è un vero tentativo o è un tentativo giocoso tentativo di assalto al Birmaille quindi 1600 metri intervallati con 4 lattine di birra quello che ha colpito subito me è che non erano 4 peroni o 4 moretti con rispetto però mi fa sognare perché sono in un periodo della mia vita in cui i social mi riempiono di profili di birrifici artigianali e quindi vado fuori di testa per queste cose qua e quindi vedere queste 4 latte di birra che Womsley si scolla così è veramente fighissimo l'ultima bisogna dire la verità Jim metà del liquido se l'hai buttato in testa perché come funziona apri la prima lattina la scoli per dimostrare di averla finita tutta te la dovresti rovesciartela in testa se l'hai finita non esce niente quindi infatti le prime 3 lattine non esce nulla la quarta praticamente è una golden shower di beer India Pay Lane praticamente ma quindi athletic brewing non è consentito nel beer mile in quanto analcolico in quanto analcolico no ho provato a vedere se era una qualche un qualche birrificio che sponsorizzava la cosa invece era solo sponsorizzata da da Wahu questa cosa quindi penso che fosse una una delle 6.000 birre artigianali che hanno in America che avranno comprato a 2 dollari l'intera confezione però così carina divertente giusto porta via un minuto consigliato per stramatizzare ma sì allora chiudiamo con le ultime due sezioni per questo mese cominciamo dal vincitore del mese ormai ne abbiamo parlato in lungo in largo per quanto riguarda quello che io ho scelto come vincitore del mese e mi spiace Marcello il fatto che tu abbia spoilerato come è andata American River 50 secondo me andrà a spostare i voti farò lobbying per la sua vittoria e il mio vincitore del mese sia per quanto riguarda la vittoria a Way Too Cool che per quanto riguarda la registrazione con Bowman è Tim Tollefson a cui auguro tutto il bene del mondo ma soprattutto auguro la vittoria nel nostro sondaggio ah ok ti ho tenuto per un secondo nei nostri punti era l'unica cosa che mancava era il tuo vincitore quando me l'hai detto sai che ho avuto un colpo al cuore perché non ci avevo pensato io ti è caduta la faccia l'ho visto e infatti per questo che non l'ho messo pubblico sono rimasto malissimo il mio vincitore del mese puoi ancora cambiare puoi dire che tu che è il vincitore del mese per tutti i mesi a seguire no il mio vincitore del mese già ne abbiamo parlato è Adam Peterman marzo stellare visto che ha vinto la gara più competitiva del mese aprile potrebbe potrebbe replicare quindi potrei riproporlo se dovesse vincere anche che Enio sempre portasse a casa la ricorda il ticket sarebbe una prima volta sarebbe una cosa una cosa grossa una doppietta per noi per noi ovviamente sì 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 sicuro immagino che il sondaggio non vincerà di sicuro Adam voterò anche io per Tollevson anche esteticamente cioè Tollevson è di una fighezza imbarazzante quindi dai non c'è niente da fare questo mese OCA 100% il nostro sondaggio quindi taggerò anche OCA a questo punto Concludiamo con la nostra rubrica di punta che è quella sulla birra del mese come birra del mese ho scelto una birra iconica che è strano che non mi sia venuto in mente prima perché è veramente una delle più conosciute in Italia e nel mondo che è la Punk IPA di Brewdog Brewdog è un birrificio che è nato nel 2007 in Inghilterra da due soci che avevano voglia di un po' scombussolare il mondo chiamiamolo piatto delle classiche ale inglesi rivoluzionandolo e portando dei sapori un po' americani in Inghilterra tant'è che a distanza di neanche vent'anni di quindici anni la Punk IPA di Brewdog è la birra artigianale più diffusa in Inghilterra e il birrificio vale ora 2,2 miliardi di dollari sono degli assoluti geni del marketing perché hanno hanno sempre fatto delle iniziative molto particolari hanno fatto delle sfilate oppure delle campagne molto irrisorie se vuoi nei confronti della società inglese e hanno aperto una marea di birrifici e di brew pub in tutto il mondo mi pare che si siano a Dubai in Italia ce n'è uno a Firenze e uno a Roma se non sbaglio ma dovrebbero arrivare a 6 quest'anno uno anche qui a Torino grazie a Dio e hanno un albergo a tema birra per cui con spine in camera e l'attitudine è quella un po' punk per cui la birra per il popolo e se vuoi secondo me è il birrificio crack del Padovano di cui mi hai donato birre secondo me si rifà un po' quello sia come grafica che come idea di scardinare e di rivoluzionare un po' il mondo tra virgolette borghese della birra qua in Italia più o meno in Inghilterra un po' di più per cui consiglio la birra è una ipa tanto per cambiare con delle note belle resinose al naso però è molto morbide molto piacevole alla beva per due volte hanno fatto anche una campagna che si chiamava Equity for Punk Equity for the Punk mi pare una cosa del genere o Equity for the People nel senso che cedevano delle partecipazioni delle azioni del loro birrificio per chi voleva per chi voleva aderire se non sbaglio la seconda volta avevano raccolte in pochissimi giorni 3 milioni di euro e ci avevo pensato più di una volta ma non tanto per quello che ti danno perché chi se ne frega ma per pensare di essere per una piccola parte cazzo proprietario di un birrificio infatti sono andato a cercare non si può più dal 2011 non sono più usciti queste storie d'altronde con 2,2 miliardi di dollari penso che sono apposta e avanzi ok direi che anche per questo mese è tutto siamo andati da quello che vedo dei tempi ovviamente poi devo ancora montare per benino l'episodio però siamo andati un po' più lunghi del solito quindi speriamo di far piacere a chi avrà una long run long esatto un po' più long degli ultimi mesi prima di chiudere io direi che faccio i ringraziamenti ufficiali intanto ringrazio a tutte le persone ringrazio tutte le persone che hanno ascoltato l'episodio che hanno in queste settimane condiviso questo episodio e gli altri ringrazio chi si è aggiunto su Patreon e cioè Monica Francioso che tra l'altro tiene un podcast tiene un podcast non si dice così ha un podcast chiamato Donne Ultra che vi consiglio di seguire di ascoltare ringrazio ovviamente sempre per quanto riguarda Patreon Davide Gogna che mi ha fatto presente che l'ho ringraziato almeno sei volte quindi ho pensato perché non ringraziarlo una settima e magari ogni mese ringrazieremo Davide Gogna magari la gente andrà a trovare Davide Gogna per capire chi è questo personaggio del mondo della community trail e facciamo una piccola anticipazione di quello che succederà nelle prossime settimane cosa dici? direi che sì ok abbiamo già preso appuntamento con Francesco Cucco che intervisteremo a brevissimo come abbiamo annunciato il mese scorso l'intervista uscirà prima su Patreon finalmente cominciamo a dare qualcosa in più ai supporter del podcast e verso metà mese in linea di massima il 15-16 uscirà anche pubblica su Spotify direi che questo è tutto potete trovarci su Instagram Facebook scriveteci alla mail infightbuckle.it se non volete essere pubblici grazie ancora di tutto grazie Marcello e alla prossima alla prossima buone porsi grazie a tutti Grazie a tutti.